Buonasera navigatori, vi comunichiamo che la live che non stavate cercando avrà inizio tra pochi minuti. Siete pregati di restare calmi e rilassati e di sistemare i giochi a mano negli alloggiamenti sotto la vostra poltrona. Durante lo show le domande saranno bene accette. Non sarà tuttavia tollerato alcun atto illecito, quale insultare, diffondere comunicati non ufficiali, dar da mangiare a tucani, cambiare lo stile dei capelli, lavare la macchina, insegnare pallacanestro acquatico alle vongole e altre citazioni di Monkey Island 2. Durante lo show non verrà fatto del male a nessun animale. Non possiamo tuttavia garantire che i Canopus non ne mangi uno nel mentre, compresi quelli considerati estinti. Vi ricordiamo che lo show durerà all'incirca due ore terrestri e potrete recuperarlo in versione integrale indifferita in un secondo momento, da consumarsi preferibilmente entro tre giorni dall'apertura. I giochi mostrati nello show sono gentilmente messi a disposizione dai nauti, non a scopo di vendita. Che fai, tocchi? Ma potete reperirli nei negozi di distribuzione che più si avvicinano al vostro gusto personale. Ogni riferimento a persone esistenti o a fatti realmente accaduti è puramente casuale, fatta eccezione per le persone vere. Spegnete i cellulari e godetevi lo spettacolo. Sono esonerati gli spettatori che guardano lo show da cellulare. Grazie mille per l'attenzione e per aver scelto Gioco Nauta per il vostro viaggio nel gioco. Allacciate le cinture, lo show sta per iniziare. E buonasera a tutti. Buonasera a tutti quanti e la live che non stavate cercando è iniziata. Che bello, che bello. Non la stavate cercando ma ve la meritate. Ve la meritate lo stesso. Esatto, esatto. Ognuno si merita la live che ha. Che bello ritrovarci anche qui in questo mercoledì, in questo ultimo giorno d'inverno, anche se qualcuno dice che oggi è già primavera, c'è un po' di confusione a riguardo. No, no. Domani è il primo giorno di primavera. Così dice il calendario, così dicono l'allineamento delle stelle e così è. Ma il fatto che sia un asno bisestile, non cambia qualcosa? Tu che sei esperto di Keplero e quindi... No, anzi, proprio perché c'è il giorno in più, siamo più precisi dell'anno scorso. Esatto. Ok. È l'allineamento che ci mancava. Ma mi hanno fatto vedere in internet che dicevano no, ma perché si cambia la tendenza, bisogna essere meno boomer e pensare... Tu credi a tutto quello che vedi su internet? Perché non è vero. C'è gente che scrive cose, tipo gente come te, ma le dice. Ci credi? No, allora no, assolutamente no. Tu potresti essere una I, per quanto ne so io. Tra l'altro. È fantastico. È tarata un po' male perché pensa solo a mangiare come I, però... È questa mi hanno programmato. Come le vere I, proprio. Come le vere I, ti mangeranno tutte. È come quella storia, mi disegnano così, mi hanno programmato così. Esatto. E allora, prima di passare i saluti, vado subito a presentare. E per presentare la live di stasera, stavo pensando, cos'è che ci fa veramente infuriare? Cioè, che ci fa dire questa è Sparta, no? Che è una frase che mi fa veramente andare via di testa. Magari in ambito giochi da tavola. Al doc così si capisce... Al doc tutto, sì, è vero. Però, insomma, in questo modo vi presentate, perché si capisce il vostro carattere. Doc. Cosa c'è? Cosa vuoi sapere? Cosa ti fa veramente arrabbia? Sui giochi da tavolo. Ah, ma sui giochi da tavolo te la dà? È una cosa così specifica. Eh sì. Le eterne pause, gli instancabili momenti in cui sai esattamente che non c'è nient'altro da fare che non quella mossa. Eppure qualcuno comincia, continua a credere che ci possa fare altro. Quindi l'analisi paralisi ti fa veramente... Cioè, questo è gioco l'auto e lo calci giù. No, ma è l'analisi paralisi inutile. Oh, ma è effettivamente... Inutile. Nel senso che quando sai che quella è la scelta, cosa stai pensando? Quello mi fa incazzare. E tu Riva? Io non sopporto, come nella vita reale, non sopporto la routine. E nei giochi da tavolo i convertitori. Quando c'hai i convertitori di cubetti, prendi tre cubetti blu che diventano un cubetto rosso, che diventano un cubetto nero. E poi dovresti essere contento perché da questo nascono dei punti. Per me è l'espressione massima della morte dentro. È proprio il male di vivere. Ho incontrato e aveva la forma di un cubetto di legno che diventava blu, che poi diventava bianco e che lo dividevi in due d'argento. No, ragazzi. Beh, ma chi ha il mercato, tuo padre comprova. Io adoro quella cosa. Cioè, è una cosa meravigliosa quando trasformi cose in altre cose moltiplicandole, cioè... No. No. Decisamente no. No, ok. Canopus, e tu invece? Beh, quando per una casualità ti va a ramengo tutta la partita. Lo togliero nei cooperativi, ma se è competitivo, ragazzi, cioè... Lo sai. Sì, lo so. Questa è Sparta, il tiro di dado, sostanzialmente. Invece per il tiro di dado, la pesca della carta, cose così, insomma. Cosa di questo tipo, certo. Comprensibile per un German come te. Invece la cosa che io non sopporto al tavolo, quando qualcuno mi dice... Ma anche il suo Facebook è una cosa che mi parte dal cuore, una rabbia profonda, quando uno mi dice... Ma oggi non esiste più la differenza tra American e German. Quando io sento queste frasi... Cioè, veramente vorrei... Ormai è tutto euro. Sì, esatto. Non esistono più le medie stagioni, neanche. Esatto. E invece è una cosa che non mi fa infuriare, ma invece mi rassicura. Sono tutti i nostri meravigliosi video-youtuber-ascoltatori. Passiamo un po' a qualche saluti. Ciao Massimiliano. Ciao Melo. Ciao Lorenzo. Ciao Nico. Ciao Alemanna. Ciao Sandro. Ciao Maurizio. Ciao Gianluca. Ciao Cosmo Tecnezio. Ciao Alessandro. Eccetera, eccetera. Che bello, che bello. Siete pronti qui per affrontare questa serata in gioco Nauta. e magari, se volete, fateci sapere cosa vi fa arrabbiare voi. No, perché no? Lo recuperiamo. Parliamo subito del fatto che l'inquinozio c'è già stato stanotte alle 4. Ecco. Io non credo queste superstizioni. Secondo me non è così. Attenzione, perché internet ti sta contraddicendo Kenopus. Questo non ti fa infuriare? Sì, un sacco. Un sacco, lo sapevo. Lo sapevo. Sì, ma potrebbe farti infuriare il momento hedonismo? No. Se trovo la sigla. Tesoro, ti assicuro che è l'ultimo. Accidenti, non ho più spazio nel Kallax. Momento hedonismo. Io non sopporto chi vince sempre, dice Marco subito. Che magari anche fa finta di niente. Carino il gioco, magari. C'è anche roba di questo tipo. Classico. C'è un po' stracciato tutti al tavolo. C'è la gente con le bave alla bocca. Che schiuma. Sì, niente di che. È come quando Remberg ti dice hai già vinto, hai già vinto. Poi alla fine vince lui. Fa arrabbiare quando nessuno fa nulla al tavolo. Un po' quello di cui è il turno se ne esce col tocco a me. È sempre lui che parla. Sì, quello sono io. Non faccio, non dico chi potrebbe essere tra noi. Bene. Chi vuole iniziare? Cos'è il momento hedonismo? A chi lo vuoi chiedere? Voglio chiedere la tema, le dice. No. Ok. Va bene. Allora ragazzi, il momento hedonismo è un momento di condivisione dove mostriamo i giochi che ci sono arrivati durante la settimana o anche i momenti salienti della settimana. Andiamo a narrare partite memorabili o giochi che abbiamo provato. e la cosa che ci interessa di più, diciamocelo, è anche il vostro momento hedonismo. Quindi, se volete, date il via da casa, il vostro momento hedonismo, fatelo anche in differita. Quindi scatenatevi e andremo a recuperare poi i commenti. Dopo il nostro momento hedonismo ci sarà il vostro momento hedonismo, i vostri sacchettini della spesa. Bene. Chi vuole essere il primo? Beh, inizio io. Vai. Cosa dite? Allora, è un momento questo, per chi non avesse visto le ultramarie, li aggiorno, dove, a casa mia, se la risposta non è Warhammer, la domanda è malposta. Quindi, qualsiasi cosa che arriva qui, probabilmente la targhetta GV. In questo caso... Cosa vuoi per cena, come dovresti coniugarlo con Warhammer? Esatto, probabilmente qualche nurgolino in salsa di sangue, per il dio del sangue. Beh, in questo caso qui però, devo dire la verità, non è proprio tutto GV. C'è scritto Fantasy Flight sopra. È un gioco di ruolo, ed è un gioco di ruolo ambientato nell'universo del 40.000. Si chiama Death Watch. Nella serie, giochi di ruolo del Warhammer 40.000, è un franchise della Games Workshop che era stato preso dalla Fantasy Flight. E ha pubblicato quattro tipi di gioco di ruolo diverso. C'è Death Watch, c'è Rogue Trader, nel quale noi siamo dei capitani di ventura che esploreremo dei settori non carteggiati. C'è Dark Heresy, che è dove impressioniamo dei cultisti, appunto, che devono sovvertire l'ordine istituito. E c'è un altro sull'inquisizione, che non mi ricordo. Poi, ultimamente, è stato acquisito da una ditta tedesca, che non mi ricordo, e hanno pubblicato Wrath & Glory, che ho preso a Essen, ma devo ancora provare. Perché tra tutti questi mi sono andato a cercare Death Watch, che ormai ha più di cinque anni? Perché, secondo me, si presta benissimo a delle campagne modulari. Death Watch, chi sono i Death Watch? È una squadra speciale di Space Marine, che prende i migliori assassini, tra virgolette, di ogni capitolo, specializzati nell'uccisione di alieni. E li organizza per delle missioni, organizzate in Kill Team, che devono andare a eliminare determinati obiettivi. Quindi, pensatelo proprio come una squadra speciale, che viene assemblata di volta in volta, e viene mandata a fare queste avventure molto, proprio di sterminazione, di razze aliene, su navi abbandonate, su Space Hulk, piuttosto che su pianeti. Secondo me, si presta bene perché è vero che siamo tutti Space Marine, che è una buona prospettiva, perché siamo tutti equiparati a livello di potere, secondo me. La difficoltà di un mondo come quello di Warhammer, che ci sono talmente tante disparità, che non avrebbe senso mettere una Startis, cioè uno Space Marine, con una guardia imperiale. Cioè, è come mettere, non lo so, un semidio con un poveraccio. Qui invece siamo tutti equiparati a livello di potere, ma vediamo tutti da capitoli diversi, con un filo al comune. Quindi, mi piacerebbe vedere, che ne so, una salamandra, che è un capitolo particolarmente portato verso la cura dell'umanità, la protezione della razza umana, con, magari, un templario oscuro, che invece è finalizzato all'estirpazione di ogni male, di ogni eresia, e vedere i conflitti che nascerebbero all'interno dello stesso party in una missione di eradicazione aliena. E quindi mi sono andato a cercare questo manuale, l'ho preso, ha un sistema molto semplice, dado percentile, proprio anni 90, e non vedo l'ora di intavolarlo e di provarlo. Bene, bene. C'è un'interessante. Ormai sei un po' preso, eh, da sto 40K, me l'hai fatto anche giocare venerdì. Sì, l'abbiamo provato venerdì. Sì, 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 la decima edizione mi sta prendendo tantissimo, mi piacerebbe anche iniziare a giocare a livello competitivo nel prossimo periodo, quando ho finito di pagare il mutuo di Age of Silverman, però. Eh? Eh sì, costicchia. Bene. Qualcun altro? No, io no. Anche io voglio parlare una cosa, però è una cosa un po' particolare, perché mostro in un certo senso manuale, un libro. Perché ieri mi è arrivato il regalo, forse inizio a pensare che parlo un po' troppo di cibo, perché mi è arrivato animali misteriosi e come mangiarli. No, ma cos'è sta roba? Ci sono le ricette, ragazzi, ci sono le ricette, tra l'altro questo è l'indice, non so se si legge, ce ne sono alcune magnifiche, vabbè, a parte le solite... Dai, leggi, leggi, leggi. La vongola gigante di Ismont, il paratan, l'agnello vegetale, questo sono curioso adesso, i funghi di Kingsport, ovviamente. I funghi di Kingsport deve essere interessanti. Vero. Il Krampus, maledice. No, 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 oddio, la mia Nemesis, no, no, no. Non ti preoccupare, il Blob, sarei curioso. Adesso è che è carino, anche bene illustrato. Ma c'è proprio la descrizione, ragazzi, è fantastica sta cosa. Ma cos'è? L'hanno preso da Dungeon Food, sta roba? Può essere che abbiano preso l'ispirazione, in effetti. Beh, in effetti, ora che ci penso, uno può usarla anche durante un gioco di ruolo, tutto sommato, un master si fa la ricetta, vuole dare un po' di... Può avere anche senso, probabilmente. Questi immagino siano i funghi di Kingsport. Diismo. Ma quindi sono presi da varie ambientazioni, non è? Cioè, nonostante la citazione sia rolinghiana, in realtà. Esatto. E' assolutamente preso da varie ambientazioni. Non è... Non si rifà un'ambientazione precisa. Benissimo. Io sono felice così. Adesso ho deciso che dopo gli animali reali passerò a questi. Va bene, va bene. Vediamo se sopravvivi, perché sono difficili da recuperare. Vado col mio momento di donismo, ma penso che sia un momento di donismo che posso condividere col doc. Allora, intanto, il mio gioco non è arrivato. quindi non ho niente da mostrarvi, perché è bloccato. Dal belgio, divine dall'estero, è lì, sta arrivando in viaggio. E tutti i giorni guardo, F5, 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 ma niente. È sempre lì. Una porta aperta con me. Esatto. Però ho avuto l'occasione di provare un gioco di cui abbiamo parlato di cui abbiamo parlato parecchio in questi giorni, e gli SS Vanguard finalmente l'ho provato dopo un bel po' di tempo che si faceva attendere, e devo dire che mi è piaciuto veramente tanto. Allora, non è una meccanica particolarmente complicata, è molto molto semplice, soprattutto all'inizio, ma il suo cuore è assolutamente tutta la campagna, perché la gestione della nave, la gestione dell'enorme equipaggio che vai a creare, se non sbaglio, sono 70 personaggi, doc. È una roba allucinante. Sì, guarda che il mazzo di personaggi è mostruoso, è mostruoso. È incredibile. È incredibile. E ognuno con le sue caratteristiche, la sua abilità particolare, e quindi, ok, chi manda in missione è questo personaggio perché l'ha potenziato, ma magari ti muore. Disastro, capito? Poi non c'è solo quello, c'è anche la nave, i tuoi lander che vai a potenziare con diverse tipologie di potenziamenti. Carino, ad esempio il fatto che tipo c'è un pianeta acido, ti devi attrezzare per affrontare un pianeta acido con un certo tipo di tecnologia. Cioè non è che usi la tecnologia super power perché è fico. No, devi usare la tecnologia giusta nel posto giusto. È una chicca, questa è veramente una chicca. Sembra banale, ma non lo è assolutamente per i giochi da tavolo. La storia è molto intrigante. Sì. Non vi dico niente, sì. Cioè mi aspettavo un tipo di narrazione un po' classica, la Star Trek, insomma al fantasy, al fantasy hi-fi più classico. Invece, subito si apre con un colpo di scena che diceva, che è anche un po' comico, per certi versi mi ha fatto morire da ridere, non ve lo spoilero. E da lì poi cresce in maniera molto, molto interessante. Sono stra curioso di vedere dove va a parlare la trama. Bella narrazione, tra l'altro la narrazione è veloce. Capito? Stai usando il log del manuale o l'app? No, stiamo usando il log del manuale. Anche se l'app mi hanno detto che... Beh, sai, l'app, io sono sempre un po' allergico, però mi hanno detto che l'app è stata sviluppata veramente bella, bene, perché ci sono tutti i suoni, gli effetti spaziali. Però non so se c'è in italiano anche l'app. Quello devo controllarlo, sinceramente. Eh, c'è tanto da leggere, è pesante la lingua? No, assolutamente. No, no, assolutamente. Bene, io l'ho giocato in italiano, perché è arrivato anche in italiano, però c'è, l'inglese mi sembra abbastanza a portata di tutti, dieci righe quando c'è tanto da leggere. Sì, è come se tu... No, che non sono mostruosi. Non sono mostruosi. Cioè, l'impressione che mi ha dato è che tu leggi delle carte, ok? Delle carte con una narrazione tipo alla Eldridge Horror, qualcosina, un po' di più, un po' di meno, qualche scelta anche, ma più che sulle scelte delle letture, sulla mappa, vado al percorso A, al percorso B, magari entri in un settore e ti si chiude la porta dietro, sei bloccato e lasci indietro le altre persone. Cioè, è molto, molto bello in questa e si sente che il mondo è vivo. E questa è una cosa che io ci speravo tantissimo. Cioè, c'è qualcosa da esplorare e questo esplorare è lì e interagisce con te. Veramente è una bella sorpresa, non l'avrei mai detto perché ne ho sentito parlare non tanto bene e invece, certo, magari uno si aspettava chissà che meccaniche, ma non ci sta. E anche, Doc, correggimi, sono due meccaniche all'inizio. Beh, diciamo che solo per la parte comunque di stretch goal che dopo si è aperta e che ti riferisco. ci sono due campagne di base per chi ha fatto il kickstarter, eh? Cioè, hai la campagna base e più hai quella che è stata sbloccata durante la campagna e se qualcuno ha fatto l'ull in ne ha tre da giocare, ma credo che non esci più di casa con la terza, proprio, cioè, ecco. Comunque sì, dovrebbe essere proprio un insieme di di situazioni che ti portano comunque a aumentare sempre di più. Anche perché se avrai notato il diario di bordo dell'astronave e le pagine, se l'hai visto. Sì, 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 l'hai visto. Come avrai notato ci sono un sacco di cose che puoi fare sbloccare, implementare e il set iniziale è veramente scarno. Pensa se cominci a buttare dentro roba, certo. Poi è bellissimo perché c'è tipo la parte, allora, è fatto tipo come un quaderno alla magic, ok? Per intenderci. Quando tu sblocchi la tecnologia aggiungi una carta in questi fogli, però non è che c'è un foglio X, c'è il foglio per il reparto scientifico, il foglio per il reparto tecnico, il foglio per il reparto militare, il foglio per il reparto equipaggio. È enorme, c'è veramente un cuore grosso dietro e quindi strapromosso, meno male, meno male, ci voleva un giochetto così, un giocone. Ma hai giocato la intro o siete partiti dalla campagna? Allora, abbiamo giocato quella della campagna che dovrebbe essere uguale a quella della intro, se non sbaglio. C'è un mazzetto di carte di... C'è, esatto, che quello è tutorial, ok? Esatto, tutorial. C'è il discorso del tempo che porca miseria e c'è le provviste che ti porti dietro, cioè ci sono dei momenti di tensione veri perché quando sei isolato da tutto potresti avere grossi problemi. Anche all'inizio, anche così, proprio... All'inizio ti accomoda, ti dice ok, però la sensazione che mi ha dato, nonostante che fossi supportato dal gioco e dire ok, stai imparando, cioè se non c'era quel supporto io l'ho morto mille volte, ma veramente molto, molto teso in questo. Bene, bene. Ok, direi che tempo sfuggito e andiamo avanti. Certo, scusate, insomma, è un po' No, ci ha fatto piacere anche perché è un gioco che ha un certo hype, quindi insomma direi che è anche giusto parlarne. Passiamo ai commenti? Sì, vai, non vediamo l'ora. Sì, ci ne sono tanti, vedo. Eh, infatti per questo vi ho interrotto, perché qua c'è tanta gente che tra l'altro inizia il commento col cibo, voi sapete che contrattualmente sono obbligato a leggere. Polenta concia. Polenta concia, che deve essere la polenta quando ci butti dentro anche tutto il formaggio e quelle cose lì. Sì. Cosa squisita. Buonasera ragazzi, non potrò seguivli in live, quindi chiedo ora se conoscete il gioco Lucidity Six Seed Nightmares e cosa ne pensate? Grazie. Mai sentito prima? No, io no. È un gioco che parla dei sogni, è un push your luck. Lo sai inventando, vero? No, no, assolutamente. È una grafica molto bella. Che dire, non è, cioè, non è un giocone, cioè, non l'ho mai provato, ma vedendo così mi sembra un ottimo, come dire, filler? Sì, direi, o un intermezzo tra i tuoi giochi. Ma filler dei tuoi che durano due ore o un filler davvero? Un filler dei vostri. Esatto, esatto, specifica quando dici filler tu, perché siamo su un'altra scala di valori qua. Esatto. Riccardo Mancini che inizia con Musotto barra Coppa di Testa Calda. Eh, ma che stanno comprando stasera? Eh, beh, stasera andiamo sul grasso, bello. Oggi per il momento donismo, Marco Polo 2, Spirium e Louis Saint-Clarke. Quindi direi che ciò che non ultime uscite decisamente, però interessanti, no? Guardate che c'è. E anche Spirium passato un po' sotto tono, ma secondo me Spirium non era niente male, eh? Esatto, Spirium è uno di quei titoli che io quando lo trovo nei mercatini ci faccio sempre un pensierino perché l'ho provato un paio di volte e mi ha lasciato, è uno di quelli che ti ricordi dopo che l'hai provato. Che ti lascia sempre. E non per quanto è brutto. Soprattutto. Esatto, te lo ricordo in senso buono. Poi, questa qua la leggo solo perché le siamo vicini a Barbara che buonasera, spero di resistere il più possibile anche noi. Anche noi, assolutamente Barbara. Anche se spero sempre di cadere prima del momento e dove del momento, del momento insomma. L'altro mercoledì è rischiato Doc, mi ricordo che mi ha detto mercoledì scorso stavo per addormentarmi in live, scusatevi, ma è stata una settimana veramente pazzesca. Qua c'è anche una sequenza di commenti perché poi Maledice ha lanciato il contest del momento mi fa infuriare quando i miei gemelli si litighano la carta da leggere facendo mi perdere un sacco di tempo. Capita anche a me con i miei amici. Scherzo. E Ale mi fa arrabbiare quando mangiano al tavolo e toccano il gioco con le mani totte. Ecco, mi scordia piuttosto sporco tutto intorno al gioco come faccio a casa di Maledice ma il gioco rimane in tonso. Questo è vero, c'è tipo l'isola intorno a te però il gioco è sacro è bravo così si fa. Abun ho appena fatto il kickstarter di Inventions Evolution of Ideas e ho completato la collezione di Lacerda. Non c'è il cercatore però non è divertente senza di lui. Questo è uno dei più carini secondo me come Concepts in un altro Evolution di Lacerda. Guarda Abun ti prego la settimana prossima ridillo quando c'è il cercatore mi fai un piacere mi fai un piacere grazie. Allora mi ispira parecchio anche a me. Ah questo questo me lo ricordo della settimana scorsa perché Orazio la settimana scorsa doveva procurarsi Darkest Dungeon e lo prenderò su Ebay. Stasettimana era prima infatti Maledice ci tiene a dire è arrivato Darkest Dungeon ordinato settimana scorsa su Ebay bellissimo gioco adesso la Mythic può spendere i miei euri nel pledge in farmaci per la gastrointerite ma li sta mandando anche il paese mettiamola così beh sono contento che ti è piaciuto ne ero sicuro perché è veramente un gioiellino e tra l'altro nella remota possibilità in cui ti arrivi lo rivenderai la fine è stata anche una buona manovra secondo me Lorenzo Natalini che salutiamo Board Game Google a me è giusto oggi Stone Spine Architects dall'autore di Cartographers questo devo aver visto qualcosa ma non ho approfondito però mi ispirava eh sì io devo aver visto la copertina ma mi sono affermato là al momento perché era un po' così però vedremo questo in cerimonia la mia compagna odia chi mette mezz'ora per fare il suo tour e poi se ne catta forte degli altri anche il Doc odia sta cosa poi lui ci mette mezz'ora fare il suo tour sarebbe interessante accoppiare la cosa vedere cosa succede al momento idonismo Hero Quest il tormento della regina degli spiriti acquistato praticamente solo per raggiungere il bardo per annunciare il bardo in Hero Quest e nell'espansione nel gioco base nel gioco base no nel gioco base no dovrebbe essere anche l'orco bardo se non ricordo male beh adesso l'orco bardo sul serio sono tempi strani Doc ci devono essere inclusivi però non so l'orco bardo che canta death metal ce lo vedo tipo sui tacchi probabilmente massimiliano buro questa settimana ho acquistato trio una simpatica rielaborazione del gioco del memory e poi ho acquistato usati cryptid e alubari sicuramente né trino né alubari li conosco cryptid sì carino mi ha fatto urlare al miracolo nemmeno a me oltre che al doc però molto massimiliano una garanzia ragazzi io non dico niente su cryptid perché non vorrei ritirare fuori l'ascia di guerra io questo voglio raccontarla perché è stata veramente una boiata allucinante il doc ha detto che cryptid ricorda per certi versi tobago uno può essere d'accordo può non essere d'accordo chi se ne frega è arrivato qualcuno di cui non faccio il nome però un nostro collega recensore tra virgolette e fa no non è così perché cryptid è induttivo tobago è deduttivo ragazzi cioè non c'è induzione senza la deduzione quindi c'è di che cosa sta parlando è come dire non esistono più america né german no non so è rimasto anche io se devi indurre qualcosa vuol dire che c'è d'altra parte qualcuno che debuce così funziona di solito quindi sono tutti gli obiettivi detto questo vi dico solo vi dico solo sì tobago no cryptid basta no è carino dei gusti non esti disputando questo non si chiama il momento di unismo questo è il momento di unismo della serata perché gli è arrivato al gesto of robin hood grandissimo sono curiosissimo battlecon più espansione tra l'altro tutti e due da Uiga qui non deve che arrivare un'altra bomba praticamente che bomba tutti e due i battlecon e tra l'altro li avevo incuriosito anche un botto return to that tower ma alla fine ho desistito figa guarda io ci ho pensato ci ho dormito la notte e alla fine anche io ho desistito ma per il semplice fatto che ce l'hanno un sacco di persone intorno a me ed è non è male a me piace un sacco quel gioco però a Canopus non l'aveva fatto impazzire è vero? è un po' piatto alla fine cioè sto coso enorme messo sopra il tavolo che ogni tanto fa le lucine ti butta fuori i nemici tu vai in giro a cercare di buttarli tutte cose belle quindi sì esatto stavo perdendo stai dicendo su cose belle mi sembra di fare sempre la stessa cosa è questo che mi ha un po' indispettito ok ricardante buonasera mi è arrivato Exodus a me Exodus io sono un estimatore di Exodus ma Exodus è quello l'ultimo Evacuation Evacuation io non sono un estimatore qua cadiamo nella confusione con Exodus Proxima Centauri perché è un monito perché è un monito non so da voi ragazzi ma a me è piaciuto veramente parecchio nonostante sia fuori dal mio universo a me invece devo dire che insomma non è tra quelli che li sono riusciti meglio secondo me avevo trovato un po' asciuttino un po' sì non mi ha emozionato ecco il gioco c'è non mi ha emozionato è nuovo non mi ha emozionato è uguale non mi ha fatto proprio schifo è la nuova versione no sto scherzando puoi anche dire è simpatico è un gioco che cresce tra l'altro è un gioco che assolutamente cresce per le prime partite sei stannato perché è veramente una cosa atipica il modo di giocare no Exodus è un po' strano no le orte quando cominci a familiarizzare ok ci siamo non è un gioco da una partita e via mi fai quasi tenerezza quando vedo gli American che giocano German mi fa quasi tenerezza quando dicono si parte stretto ok no non parti stretto però sto giro ah Alessandro scusate sto giro recuperato Dune a Game of Conquest and Diplomacy molto Conquest e poco Diplomacy me l'ho trovato un pezzaccio e mi pareva brutto lasciarlo lì mai lasciare lì un Dune mai eh beh comunque una piccola parentesi sui giochi Dune di Dune sono tanto belli cioè non mi ricordo uno brutto di Dune eh oddio beh a parte che ce ne sono alcuni che devo ancora giocare però sì beh Dune Imperium a me era piaciuto però insomma non è che l'ho messo proprio nella top dei gioconi forte Dune Imperium ma ragazzi sono ancora trovato il vecchio Dune è fuori scala cioè non è un gioco sì forse il Dune è un'esperienza di vita forse il Dune della Portal potrebbe avere qualche striatura non lo so quello deduttivo The House of Secrets sì quello forse effettivamente vabbè comunque messo in cerimonie pleggiato Requiem della Ludus e mi è e mi è stata regalata l'espansione della Comun degli Iron Maiden la numero 3 aspetta qualcosa mi sembra eh sì c'è un'espansione Iron Maiden se non sbaglio di Zombicide proprio ah ok ma va eh no è ficca è ficca che poi tra che Mong ha fatto molto discutere questa settimana perché è uscita con un titolo molto molto particolare cosa è uscita che adesso ho tipo l'apsus fotonico eh eh sempre bello da Guiga gli è arrivato anche tutta la roba di Bullet 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 mi incuriosiva tanto effettivamente eh io l'ho giocato e bisogna costruire dei pattern praticamente per eh trasferire i propri Bullet le proprie tessere all'avversario in maniera tale che si il suo domino praticamente si incastri male e sia costretto a far cadere queste tessere a coprirgli i punti di vita insomma no quindi a fargli dei danni e la cosa carina è proprio la simmetria di queste varie personaggi che ci sono ognuna con le sue capacità sarebbe stato triste per il tema della serata è molto puzzle game eh beh assolutamente sì oh Marco questa è una domanda per Riva ragazzi qualche consiglio per chi volesse iniziare a giocare di ruolo beh non farlo ma perché no beh un consiglio è trovare magari allora ce ne sono tantissime di associazioni attive sul territorio italiano ti consiglio di seguirle c'hanno i loro canali social e di trovare magari una serata che fanno per esempio un GDR al buio organizzano delle sessioni aperte al pubblico e vai lì e lo provi lo provi con della gente che magari gioca già così non hai la difficoltà dell'impatto e semplicemente ti siedi e ti lasci trasportare dalla storia se poi vorrai ritornare allora è quello che fa per te altrimenti ci sono tanti altri giochi altri mondi da esplorare lì fuori ma ti consiglio di appoggiarti appunto a chi chi lo fa da anni perché perché l'esperienza ne risente segui segui la storia la scheda sì ce l'hai lì ma solo quando te lo dice il master la guardi così puoi apprezzare bene l'esperienza poi ragazzi mi stavo quasi preoccupando che stasera non arrivasse qualcuno della Ludus Magnus travestito da un altro telespettatore per dire che gli era arrivato Black Sword sono tranquillo oggi che è arrivato un altro Black Rose ragazzi ne hanno venduti a tonnellate veramente veramente hanno scaricato i palli ma perché allora adesso scherziamo Black Rose è un gioco veramente stradivertente a me fa impazzia ogni partita è proprio bello e il Rebord secondo me promette molto bene forse anche meglio dell'originale non lo so io ho provato penso il Rebord e ti dirò che tutto suonato non è il mio genere però l'ho apprezzato anch'io ho fatto bene come gioco ho Alessandro Alessandro settimana ricca gli hai arrivato Hit Sky Team espansione per Ark Nova due espansioni di assalto imperiale Moonray River bello 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 in modo assurdo bello sì ti auguro di trovare il posto dove metterli e il tempo per giocarli soprattutto è quello curioso di sapere le espansioni di assalto imperiale quali quali sono quelle che mi mancano non lo so quali sono le migliori espansioni per assalto quella con Giabba comunque quella con Giabba è il rancor assolutamente con Giabba ok poi Alessandro ci dice non vedo l'ora che mi arrivi ISS Vanguard ma temo che dovrò aspettare Natale perché non hai fatto il Kickstarter mi piace forse non l'ha preso tramite Game Found l'ha preso con qualcos'altro forse vedrai che l'attesa varrà Mimmo che dice Capocollo di Martina Franca arrivato Exodus The Witcher The Witcher NM non è Old World no The Witcher NM sì ho capito qual è però non mi viene la parola vabbè è uno è in offertissima Alone che ne pensate di quest'ultimo oh bello sì anche Alone proprio bello rivalta le meccaniche classiche del Dungeon Crawler la sensazione chi si diverte di più secondo me è l'eroe ma non chi si diverte che sta bene che soffre esatto perché si trova in una condizione assolutamente impari i tre over lo sono tosti a gestire e ti dà proprio la sensazione di sentirti solo il titolo è proprio azzeccato molto bello e ha delle chicchie niente male tipo rumore da dove vengono questi rumori concordo ho fatto veramente molto bene Daniele buonasera a tutti ho recuperato Tenet e Grail l'espansione Cocopelli e Trio come gioco tascabile a portarsi sempre dietro nelle cene tra amici è il secondo Trio che sento stasera se era il terzo Trio era vi aspettavo con questa battuta perché sapevo che qualcuno avrebbe detto poi Barbara io ho preso Orifield edizione in italiano con i classici mostri della Universal e Sky Team consigliatissimo anche da voi Sky Team è arrivato in Italia finalmente possiamo dirlo la Smodi ha lanciato la sua campagna in italiano sì non so se è già uscito o comunque se l'uscita è immediata comunque ci siamo mi pare si è già uscito forse è già uscito in effetti Ciopek approfitto dal senso del cercatore per confessare tra l'altro grazie ad Ottimi Sconti di aver preso Inventions e se tutto va bene dovrebbe arrivare a fine mese Ottimi Sconti ma dillo tranquillamente anche in presenza di cercatore sì ma soprattutto dimmi dovrai trovato con Ottimi Sconti perché non possiamo leggerlo se lo leggi sotto c'è scritto ma non possiamo leggerlo ah l'ha scritto fantastico è per cercatore Valeria non ti preoccupare dunque certe cose se le diciamo quando c'è cercatore sono più divertenti sì esatto Maurizio per il mio momento l'onismo ha finalmente cominciato a giocare i miei giochi ma effettivamente ha poco più di 600 con espansioni visto che finalmente hai trovato un gruppo di gioco ma che bella notizia bella notizia che hai trovato un gruppo di gioco spero che ti ci troverai bene poi beh salto un po' di commenti scusate ma siete veramente tantissimi qua Drugo dice che è una bellissima felpa arriva grazie sono degli intenditori di musica qua e il covo degli avventurieri scusate di tardi ma la colpa è di maledice che dice perché iniziate le 21 e 30 io sono sempre io che dico che non è vero quindi scusami ma c'è perché lì ascolta il saggio American esatto mi sono dispettito adesso per il momento edonismo siccome sono diventato povero per colpa di Vinted ho preso solo Occo l'era di Asagiri che non conosco ma posso capire che sei diventato povero per colpa di Vinted a qualche anno Occo però comunque interessante e poi ci salta ancora qualcosina scusate questa è una domanda che viene fatta spesso ve la leggo vedo Arcade mi piacerebbe sapere il tuo parere su questo gioco cosa? beh allora innanzitutto confesso che è un gioco American non è German lo dico già subito molto narrativo cioè una pesante parte di narrazione è un dungeon crawler però è abbastanza entry level insomma è un gioco le regole sono molto semplici ovviamente può essere ottimo anche per far giocare dei neofiti l'ambientazione è Egitto steampunk io non dico altro è la mummia l'ambientazione esatto no perché ci sono anche i meccanismi a vapore dentro le piramidi però è fichissimo però ha fatto sì le miniature sono anche molto belle hanno fatto bene è molto carino il fatto che perché tu lanci dei dadi e ogni tanto lanciare dei dadi speciali per raccogliere determinati icone se tu riesci a raccogliere un certo numero di icone guadagni potenzialmente perché il gioco è legacy tra l'altro guadagni il campo base quindi guadagni per esempio edifici per il campo base oppure scopri nuove parti della trama è molto carino a questo punto di vista secondo me è fatto molto bene poi Michi Bra ciao a tutti sto cenando ma volevo chiedervi se comprare il tuo Dark Tower oh ragazzi io non l'ho presa adesso mi fate venire i sensi di colpa porca miseria secondo me si vive benissimo anche senza non è assolutamente vero Michi allora Dark Tower è un gioco storico e stai dirigrando un pezzo della storia dei giochi da tavola che poi questa ridizione non ti piace ok ci può stare però è per gli American è fichissimo anche le illustrazioni non solo la torre sono molto belle e la meccanica a me piace alzo le mani alzo le mani qua va bene in questione di che cosa gioca uno nel cuore mettiamola così Francesco Iervolino Francesco Iervolino eccolo qui anche a me arrivati oggi Skype 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 team Skype team è bellissimo io voglio Skype team si gioca già al lavoro e si gioca su Skype bellissimo tra l'altro Horifil e Mini Express e poi hai detto questo è il mio trio così abbiamo anche il terza persona che dice la parola trio trio fantastico io ho preso anche Arcais ok comunque si correggia anche Skype dopo ovviamente allora ragazzi prima di andare avanti a passare al nostro e-commerce di riferimento volevo tirare fuori il gioco che stavo dicendo prima ok vediamo eccolo qua allora Paul Bonner che molti lo conosceranno ha lavorato con la Comond per questo The Dead Keep mamma mia ragazzi allora ecco il motivo per cui non ho preso The Dead Dark Tower perché costa vedete 210 dollari ovviamente con tutto e allora Max non è lì che ti sta ascoltando mentre dice no lo so già lo so già devo andare infatti in vacanza con lei The Dead Keep è di una bellezza incredibile ragazzi guardate che illustrazioni che miniature ok avete già sentito dire tipo Zombicide è un misto di Massive Dark non me ne frega assolutamente niente ragazzi può essere anche una ciotola di caffè stiamo scherzando scherzando ma vedete che belli che sono poi tutto centrato sui Goblin che sono una delle mie razze preferite lo sai comprare per le miniature la grafica ma sembra poco miniature grafica allora non ha più senso la mia esistenza se compro un gioco per le miniature dovrei rivedere tutto no ok per carità è un dungeon crawler entry level sicuramente però di cosa stiamo parlando ragazzi fuori scala li state vedendo sono meravigliosi o no sì le miniature e le illustrazioni sono fantastiche ricordano un po' quelle di tu intu vang se vuoi se ci pensi proprio un fantasy nordico vicino che è l'ennesimo zombie side ecco sì tutti hanno detto così però con qualche spruzzo di massive darkness grazie 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 ragazzi so che mi sostenete so che siamo in buona compagnia sai cosa mi ha ricordato a me vi ricordate che l'altra settimana avevo parlato di labirint sì è vero a me ricordano un sacco le creature che ci sono nel film di labirint tantissimo i cosi i giganti di pietra sì alle regole ho dato un occhio un occhietto ma ti ho detto non mi può interessare di pensare gli ho dato un'occhiata io sto aspettando che questo lungo elenco di miniature finisca per vedere how to play esatto dovrà essere dopo stanno cercando di fulminarmi col collare da lavoro perché è arrivato anche Mario Wiga adesso ascolta guarda 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 non l'hanno chiamata drago l'hanno chiamata viverna perché è una viverna ragazzi questa vuol dire profondità di game design è una miniatura maledice dai vabbè ma sai quanti mi mettono draghi al posto di viverne tonnellate di persone ma è già partito il Wiga di questo sto cercando di farlo ma soprattutto eccolo qua cosa posso fare se voglio acquistare di deep come posso fare se l'avete su Wiga fermi io voglio sorgire una cosa Pasquale ha scritto questo ma stasera qualcuno ha già detto che i termini americani non esistono Pasquale è un viaggiatore temporale perché arrivi il lag giusto come dopo fantastico ok come posso fare se vogliamo acquistare ce lo dice il povero Mario Wiga nostro spettatore che non ha niente a che fare con noi ovviamente fidiamoci come posso fare se voglio acquistare the dead keep a prezzo vantaggioso allora si fa così se tu vuoi acquistare the dead keep e vuoi vedere se trovi un prezzo vantaggioso io ti consiglio andare su Wiga se lo trovi su Wiga c'è già il gruppo d'acquisto non solidale e questo gruppo d'acquisto non ha ancora raggiunto il suo limite massimo di partecipanti puoi iscriverti se questo gruppo d'acquisto non solidale raggiunge il gruppo il quantitettivo minimo di partecipanti tu paghi e vedrai che ti arriverà a casa altrimenti vai sui social di Wiga in particolare su Facebook e in particolare grazie al link descrittivo a questo video scrivi un post costretto cario Mario Wiga io ci terrei tanto ad avere the dead keep ma vorrei anche non andare a vivere sotto un ponte speriamo che il finisce scappare un buon prezzo e per favore fai qualcosa Mario Wiga chiamerà Mario Day Mario Dead Mario Keep se queste quattro entità troveranno la quadra verrà aperto dopo l'acquisto non solidale di the dead keep e finalmente sono riuscito a dirlo senza impaperarmi il titolo di questo gioco bene cosa abbiamo questa settimana su Wiga bel catalogo una montagna è sempre più pieno di roba ci stanno accelerando su Wiga bravi così ci piace tanti tanti bei giochi ma scusa ma sono anche scontati di giochi c'è almeno 5% o meno 15% eh sì è questo il vantaggio di partecipare a un gruppo da questo non solidale non è che un clicchi gli aggiunge il cestino paghi e il giorno dopo ti arriva a casa questo no però ma ci devi aggiungere anche le spese di spedizione poi no? no il costo è già comprensivo delle spese di spedizione che significa che è un prezzo completamente trasparente e vedi c'è lo sconto di quello che se no che l'avessi pagato altrimenti e soprattutto trovi anche giochi che sono spesso difficili e preferibilità per non parlare dei kickstarter dove guiga si smazza tutto la comunicazione con l'editore e anche il rischio che il gioco non arrivi nonché immagino tutte le spese occulte che ultimamente sono quello che mi blocca da fare il kickstarter perché questo ricordo è un prezzo trasparente che tu paghi quello che c'è scritto se poi l'editore del kickstarter ti fa pagare 50 euro in più per rivedere se vuoi vedere il gioco che hai pagato è proprio tipo rapimento con la foto del giornale il rischio va se lo prendi in spalla se lo accolla viga stasera non so parlare sarà stanchissimo allora cut in the box vedo che anche questo è già uscito su viga è andato bene mancano due ore a me piace un sacco mi ha divertito un sacco Barcellona cosa ti dici Davide c'è l'ho devo ancora provarlo cavolo però chi l'ha giocato mi ha detto che è un gioco onesto non esaltante quindi comunque sono curioso c'è una cosa particolare che se tu prendi il regolamento di Barcellona ogni regola ha una giustificazione storica cioè tu hai le regole che muovono il tram quelle regole lì muovono il tram in un certo modo perché nel 1900 quello che è a Barcellona il tram faceva quel percorso lì 1900 quello che è bellissimo allora poi vabbè ho visto che a Gemini non ce la sono praticamente prosciugato eh sì non male che queste otto chi se le prese guardate l'avevi presentato bene questo le live scorse è lì che devo giocarlo ragazzi purtroppo ci sono tanti giochi anche tutto il triste Imperium eh ragazzi Imperium io l'adoro ragazzi un bel gioco di civizzazione atipico assolutamente ma tanto per cominciare le illustrazioni sono molto molto particolari e la meccanica altrettanto io lo straprezzo io devo per forza giocarlo dovrai dovrai farlo ma tu l'hai mai fatto giocare davvero no non lo hai mai fatto giocare eh allora sabato lo porto di cosa stiamo parlando bravissimo bravissimo perché ce l'hai sempre dietro ma poi hai sempre intavolato altri capito giocato ai german cosa vi devo dire si è sempre intavolato altro con te tra l'altro è che adesso noi eravamo sull'angolino a giocare ai german brutti e cattivi esatto volevo giocare Imperium ma hai tirato fuori Stationfall e quindi eh Cloud Spire poi abbiamo Cloud Spire Cloud Spire che ormai è un classico anche un po' di Viga però gran gioco veramente un gran bel gioco Star Trek Frontier abbiamo fatto settimana scorsa il Mage Knight di Star Trek sostanzialmente un po' più light Battle.com guarda quante ne stanno andando via voglio dire che ci state ascoltando bravi bravi perché questo è un signor gioco vero Riva so che tu ce l'hai assolutamente sì ragazzi bravissimi io questa ce l'ho già perché è per quello che non l'ho fatta ma andate 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 c'è anche l'espansione di Nucleum che tra l'altro vi ho provato giusto ieri cavolo e cosa ne pensi di Nucleum è vero che è un barrage senza pestarsi i piedi come dice è il barrage democristiano come dice qualcuno nel nostro gruppo non ha proprio nulla di democristiano nel senso che effettivamente per metà partita tu non sai neanche i nomi dei tuoi avversari non ne frega niente e poi da metà partita in poi improvvisamente ti accorgi che ci sono devi correre prima di loro a rubargli gli obiettivi o gli spazi nelle città e cose così bello tanta roba veramente tanta tanta roba ha veramente tante regole infatti ce ne siamo dimenticati l'una mentre giocavamo ma vabbè prossima volta ha un sistema molto bello soprattutto con questi gettoni obiettivo che ogni tanto tu fai il recharge delle carte quindi metti giù dei gettoni accedenti in base a quante edifici si è riuscito a portare elettricità durante il gioco anche in alcuni punti l'ho trovato proprio all'inizio anche bello stretto cioè non è non è che parti da metà gioco lui praticamente accelera ha proprio l'impennata l'impressione che avevamo avuto noi facendo la demo è forse che avesse una partenza molto lenta effettivamente è un po' sì forse un po' forzata anche no forzata no è una cosa però forzata mettiamola così tra virgolette nel senso che all'inizio sei un po' obbligato a cercare di star vicino alla centrale a carbone perché è quella che fa energia all'inizio non c'è ancora il plutonio quindi no ne hai anche una al plutonio però è un po' costoso di trasportare insomma all'inizio ti conviene di stare vicino a quella del carbone e poi c'è la città di Praga la città di Praga ti dà un quintale di punti quindi ti conviene sempre tutti corrono verso quella che comunque è lontana da tutto quindi infatti questo qui come espansione mi trova interessante perché ho visto che non c'è Praga quindi magari ti dà un aisle run to the hill mettiamola così la corsa verso la collina ma sai cosa ho scoperto l'altro giorno che le cose radioattive non sono verdi lo sapevi tu che non posso vedere che qua fa che trasportano un nucleo radioattivo che noi pensiamo sempre al verde del radioattivo potevo immaginare che non fossero verdi florescenti avevo questo sospetto maledetti Sipsor mi hanno condizionato una vita ti hanno rovinato la vita veramente sì quello l'uomo radioattivo esatto anche un po' Hulk ma poi torna Mind Clash con Septima gioco un po' controverso ma comunque con una tematica molto affascinante che è la cazza alle streghe e secondo me esteticamente molto bello poi che cosa abbiamo di bello che vedete voi che ha avuto su li abbiamo detti tutti sai no ce n'è uno che secondo me potremmo far vedere gli altri name dei soliti che abbiamo visto la settimana è Vroth della Cip Theories che esteticamente è bellissimo esteticamente sì ma è uno un po' più leggero del solito vero sì sono andati un po' più light un po' più tranquilli tra l'altro qui l'autore è anche l'artista è uno di quei casi laudato laudato laucard laucard lo sai che deve essere sempre laucard perché fa le carte laucard il gioco di carte di laucard laucard assolutamente che dire curioso curioso è anche un buon prezzo secondo me 69 euro ovviamente di bundle di cosa stiamo parlando molto bene andiamo accedere a un altro perché siamo quasi un'ora di momento idonismo esatto siamo fuori da ogni scala stasera perché poi vorrei di prendere in mano anche qualche commento dove stiamo ah sì giustamente che cosa è previsto per i prossimi giorni su Wiga ve lo dico subito Keyflower più espansioni non male Misty Waters e poi sono in trattativa quindi non è sicuro ma possiamo dire loro stesso Dungeons of Doria ah 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 ci vede far spendere altri soldi maledetti va bene va bene bene ricordo un oltre le altre due nostre partnership proprio in velocità perché tempo sfuggit sono Mario e Stefano Edizioni che per gli amici MS Edizioni è una persona sola con due nomi e cognome Edizioni dove col codice sconto gioco un'auto a 15 con la G maiuscola avete il 15% di sconto su tutto il catalogo che è insomma bello pieno di giochi di ruolo anche tradotto in italiano e poi abbiamo invece Mario Studio Mario Super Mario Nova quindi 3 Mario che hanno fatto l'unica azienda che è Studio Super Nova dove col codice sconto gioco nauta tutto in minuscolo puoi avere il 10% su tutto il catalogo online questo per insomma l'anniversario l'anzo di il catalogo che è successo ormai puoi dire l'anniversario dell'anzo di giochi l'anniversario dell'anzo o fra un po' è un anno che ci abbiamo giocato la play maledice ormai sì due mesi e passa un anno è cruciale poi recupero poi c'è l'anniversario dell'anno d'uscita certo tra vent'anni siamo ancora qui a dire che è per il lancio di Yucatan di vent'anni fa è il nostro ventesimo anniversario esatto tutti vecchi tra l'altro ma allora qualche commento vediamo subito Alessandro che dice non mi sdobbate zombie side perché pochi giochi restituiscono un tasso di divertimento e casino al tavolo come sto titolo aggiungo ma bravo Alessandro bravo Alessandro allora vogliamo veramente dirlo perché zombie side non è il mio gioco ovviamente perché sono un po' più profondo come giocatore ma cavolo zombie side lo giochi con tutti e ti diverti con tutti cioè se io vado a casa di Doc e a casa sua due zie che non ho mai visto io dico ma perché non giochiamo zombie side e le zie del Doc dicono sei perché questo è zombie side ok andiamo avanti il calo ma di senjutsu per noi di Wiga qualche buona nuova e a te ma le dice che già c'è già lo hai che ci dici ma tu hai già il senjutsu ma le dici e ancora c'è una fanata ah ok non può dirci ci può dire che il cellofan è buono calo no ragazzi c'è tantissima roba ti sto giocando le cose ma ci vuole un po' bene poi vabbè voglio salutare il mondo di giochi che ci ha scritto carbonara quindi non posso non leggerlo colgo l'occasione per salutare tutti quelli che ci seguiranno recupereranno questa live indifferente ma c'è anche Pico ma Pico che poi dice anche dà una notizia agli spettatori è importante che la Civ Theory per Wroth fa solo da publisher artista autore è quello di Dye Stron per chi lo conosce Dye Stron sì 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 ok va bene e con questa news di Pigro che ringraziamo per averci la portata direi che possiamo chiudere il momento edunismo vero sì il più lungo di sempre posso dirlo cioè da 45 minuti stiamo facendo edunismo sì infatti penso che metterò i collari con la scossa elettrica da lavoro anche a voi così vi accelero ma perché ci piace chiacchierare siamo tipi così noi no ah sì scusami Pico ma Pico è venuto il live solo per se parlavi male di settima tranquillo Pico ma Pico succede sempre no ne ho parlato anche bene ho detto che è una bella grafica e per chi piace la cazza può essere interessante poi che a me ha fatto rebrezza un altro discorso però ma allora ragazzi voi volete se Pico compro un gioco se lui fa un video un live vedete i suoi giochi dietro ecco quelli evitatele tutti fidatevi penso che la prossima volta mi spara ciao Pico ciao 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 ti vogliamo bene va bene parliamo di puzzle game sì meglio perché fra poco devo andare a letto io infatti anch'io è stata una settimana pesante tra l'altro per fortuna si è avvicinato al weekend spettiamola così puzzle game stasera parliamo di puzzle game o giochi che utilizzano abbonatamente i puzzle ma che senso puzzle game cos'è un puzzle game cos'è un puzzle perché noi siamo tutti abituati con quello che da bambino mia nonna chiamava le puzzle non so se anche le vostre nomme chiamano così che in realtà erano un puzzle ma lei diceva puzzle ah ok sì lo so ho cresciuto molto bene a questo punto di vista quindi il puzzle tipico in cui tu hai un insieme di pezzi e ricostruire un'immagine quello è proprio il significato normale il puzzle anche se poi questa parola viene declinata viene utilizzata in un contesto un'accezione molto più ampia e quindi puzzle sono anche un po' gli enigmi rompicapo tutto quello che è di complessa soluzione o comprensione e siamo abituati anche nella vita normale insomma quante volte abbiamo guardato un giallo e l'investigatore dice finalmente ho trovato i tasselli di questo puzzle o cose così insomma non è che stavano costruendo il puzzle della scena del delitto comunque e quindi lo stesso principio si sposa a qualche giochi da tavolo quindi puzzle game non è semplicemente il game il gioco dove devi incastrare dei tetramini adesso la butto lì per comporre un'immagine o pattern o qualcosa di simile e anche il gioco che si basa su dei rompicapi o dei problemi che richiedono capacità di problem solving come dice lo stesso board game che dice capacità di problem solving organizzare e sequenziare le informazioni e poi non mi ricordo un'altra cosa si riconoscimento dei pattern insomma se lo dice BGG chi sono io per dirlo quindi la domanda di stasera beh io adoro il puzzle game però che faccio subito spoiler ma il puzzle game soprattutto quelli spaziali con i tetramini da incastrare mi piacciono sempre un sacco ma sono così e quindi vi chiedo invece se uno siete d'accordo con questa definizione quindi cos'è per voi il puzzle game insomma se vi piacciono tra l'altro io direi che parto subito parto subito a maledice uno perché sono una persona cattiva cioè è come una scuola ragazzi è incredibile sempre il primo interrogato è un destino posso chiedervi una cosa io a questo punto posso richiedere qualcosina sulla tua domanda Canopus potete dirmi dei puzzle game una cosa che vi piace ma anche una che non vi piace perché secondo me c'è un po' di tutte e due è un genere un po' polarizzante tu ci hai già detto che la parte di rompicapo ti prende bene c'è qualcosa invece che dei puzzle game ti lascia un po' la mare in bocca poi che ti risponde per primo io guardate a me mi lasciano mare in bocca quando è eccessivamente astratto quando l'astrazione è veramente eccessiva e mi capita mi è capitato anche decente che con alcuni escape game escape game sono quei giochi che simulano escape room ma anche lo stesso exit che simula escape room che ti permette un'ambientazione poi i puzzle che ci sono dentro cioè l'ambientazione praticamente te la dimentichi e stai solo facendo risolvendo problemi numerici o comunque di logica ma quello lì stranamente per quanto io sia german mi indispettisce mi lascia un po' la mare in bocca come cosa ti sembra più una settimana animistica che è un gioco da tavolo sì sì tra l'altro la settimana animistica secondo me ha un filo logico più stretto di alcuni giochi di exit oppure ecco un'altra cosa che a me è capitata con delle escape room della get on games quelle lì quelle che erano sul foglietto di carta 3 ecco quando l'enigma è una cosa assurda quella mia reazione è più o meno questa ma va a fare più o meno così ma la dici tu che sei american che tra l'altro però come america gli america sono abituati a realtà il puzzle game perché gli america dentro hanno spesso le entiere enigmi puzzle penso per esempio alla caso della follia lì sono proprio puzzle da risolvere per aprire la serratura o per risolvere una pozione è una meccanica che accompagna l'america non necessariamente è la sua main meccanica vedi la così non mi dispiacciono appunto se sono di contorno quando magari è troppo premonderante vado un po' in difetto il caos in un puzzle è un po' un problema no? cioè un puzzle dove cambia i pezzi potrebbe portarti alla follia anzi sarebbe interessante perché tipo ah non finisci mai no? però è un comunque un concetto molto ampio tipo a me viene a pensare i tower defense sono molto puzzle game per certi punti di vista perché hai delle situazioni da risolvere in una sorta di riflessione mentale no? e sono dei pattern tu affronti questi pattern che sono i pezzi del puzzle che vai a piazzare ma anche un gloomhaven che anche se non è gloomhaven adesso vale faccio arrabbiare mezzo mondo mi dispiace so che non è un dungeon crawler allora è inutile dirlo cioè puoi dormirci la notte ma per me gloomhaven non ha l'anima di dungeon crawler ha più un'anima da puzzle game perché ha delle strutture a pattern no? cioè la stanza A la stanza B che è similare e si si ripercuota ti vengo in aiuto io perché se tu giochi gloomhaven con le regole quelle precise di gloomhaven assomiglia tanto agli enigmi quelli degli scacchi di questa settimana animistica hai già i nemici piazzati lì hai le carte in mano devi decidere che sequenza giocarle tenendo conto che ovviamente anche i nemici si attiva su quello che vuoi in modo da risolvere la stanza lo scenario entro un tempo prestabilito dato dalle carte che hai in mano esattamente cioè questo è appunto l'affrontare i pattern questa cosa qui ma anche nei cooperativi un pochino c'è questa questa anima puzzle assolutamente perché mi ripeto scusatemi devi affrontare situazioni predisposte dall'autore magari ecco sono casuali all'inizio cioè prima che vengano create la situazione però nel momento che è creata è stabile e vai a affrontare il pezzo dici come lo affronto lo picchio lo sposto ci vado ci vado a muso duro lo tanco ok queste cose qui funzionano nei cooperativi molto di più che in un semicooperativo che è molto più variabile certo no beh puzzle game a me in generale piacciono sono d'accordo con te che quando cominciano a diventare un po' troppo astratti ok le prime partite le fai dopo magari cominciano a essere un po' sì meno coinvolgenti però anche lì dipende da variabili o porzioni che ti danno complessità eccetera eccetera la cosa però invece che a me dispiace un po' di più è quando i puzzle game diventano un po' troppo e rispolvero una delle frasi classiche del gioco da tavolo un po' troppo coltivare il mio orticello nel cui fondamentalmente ti saluti ci vediamo a fine partita ciao e cominci a costruire i tuoi tetrabili polibili quelli che sono per incastrare varie cose costruire il tuo parco piuttosto che la tua città piuttosto che tante altre cose e a volte succede che l'interazione si fa un po' si risente un po' ecco su queste cose è chiaro che qui lo diciamo nel momento in cui i giochi sono competitivi quando invece sono cooperativi ovviamente la questione cambia perché devi comunque accordarti con gli altri condividere le scelte che hai pensato vedere cosa ne pensano gli altri studiare una strategia per risolvere il puzzle di adesso ma anche quello che magari può capitarti fra uno o due turni no? ecco questo in generale e no a me comunque piacciono perché comunque ti pongono sempre davanti a una sfida una sfida che come dicevo prima può essere immediata ma può essere anche da diluire allungare nel tempo e trovare una soluzione che magari non ti dà tutte le variabili adesso potrebbe dartene di più andando avanti però magari andando avanti potresti perdere punti o quant'altro quindi in generale direi approvato direi che abbiamo hai trasmesso perfettamente l'idea Riva beh cosa mi piace dei puzzle game che di solito hanno una forte componente celebrale proprio mi attivano la testa sono lì a pensare a come incastrare meglio le cose i pezzi piuttosto che le combo piuttosto che come risolvere è un problema e essere e riuscire ad ottimizzare nel migliore dei modi la possibilità di farlo in questo godimento però di solito sono sempre da solo e questo è quello che non mi piace un po' dei puzzle game nel senso che i puzzle game inevitabilmente secondo me hanno una componente solitaria in quanto anche quando facciamo un puzzle vero e proprio anche se lo facciamo tutti insieme ognuno cerca un pezzo è difficile riuscire a creare secondo me in un puzzle game quel vero momento di condivisione o di interazione che c'è che c'è in tanti altri giochi di solito quando mi piacciono un puzzle di fatti i giochi che porterò stasera vedrete risentono un po' di questa mia visione sui puzzle game non ce ne sono tanti sì si fanno insieme ma sì in realtà ho presente dei puzzle game o sim dei puzzle game tipo Space Cadet forse è del doc se lo ricorda dove uno risolve il suo puzzle per creare effetti che utilizzano gli altri quindi qualche tentativo certo a riguardo dico solo per completezza però sì concordo concordo è un punto di vista che capisco riprendiamo qualche commento vai vai sì assolutamente sì anche perché Davide scrive frittate di cipolle il mio tema live momento di riso great western train trail scusate e beh ovviamente black rose wars assolutamente non avevamo dubbi benvenuto Davide a live di gioconauta ti fa piacere vedere con black rose wars sì sì e non potevi non esorbire con black rose wars assolutamente ogni nostro telespettatore penso che ne abbia uno credo a proposito per stare in tema ho appena preso project l stai perfettamente il tetris il tetris il tetris proprio il gioco ispirato al tetris ma com'è che li chiamate voi i pezzi del tetris perché per me allora avevano nomi no no c'è un errore a tal proposito allora c'è chi li chiama tetramini i tetramini sono componenti sono fezzi fatti da 4 quadrattini quindi nel momento qui c'è il quinto quadrattino non sono più tetramini esatto esatto o ce ne sono a meno di nel momento qui ci sono meno di 4 non sono più tetramini o anche polimini avete detto polimini 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 si è corretto perché sono lì ci sono più quadrattini non giocherò più a tetris nella stessa maniera eh immagino adesso che abbiamo sconvolto polimini poi massimiliano a me i puzzle game non dispiace però alcuni li trovo un po' frustranti si sono d'accordo che alcune volte qualcuno esagera mettiamola così calcano la mano Fabrizio che subito Blumeven c'è la letteralità data dalle carte mostre e dai modificatori di attacco che lo rendono comunque molto tattico per cui i pattern vanno continuamente riadattati per me però la cosa non cambia non so se per te cambia qualcosa ma le dici ovviamente ci dovrebbe essere una modifica di attacco se non ci fosse stata quella Blumeven non ci sarebbe arrivato invece cioè ci vuole la varianza ci vuole la tattica è molto tattico Blumeven funziona molto bene le sinergie tra i personaggi assolutamente anche se comunque puoi fare delle precisioni probabilistiche in base a quello che si se sei un pazzo psicopatico che probabilmente caserà la fine del mondo si ok si però il di Massimo comunque la prima carta non puoi sapere che cosa esce no quella no prima notte ok già con la seconda magari inizi un po' a pensarci poi Alessandro per una mente semplice prettamente america come la mia qualsiasi titolo germano diventano dei critici puzzle game no allora io Alessandro volevo dirlo ma poi mi sarei preso un sacco di parole da questi tre quindi da questi due più che altro perché Riva forse un pochino condivide non tutti i german sono puzzle game capisco che possono risultare complicati non dico di no sembrano sembrano terribilmente puzzle game ok 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 e poi saluto Luca Laveglia che ci dice ha lavorato tanto ti capisco ti capiamo benissimo ok gli fiamo parlare di giochi meglio sì dai chi vuole essere il primo chi vuole essere il doc che ha detto meglio vai va bene e come spesso faccio vi porterò fra le stelle o meglio noi stiamo al tavolo ma guardiamo verso l'universo perché vi parlerò esatto vi parlerò di The Search of Planet X ah ok che io sì che io potrei tranquillamente ribattezzare il sudoku delle stelle o il tobato il tobacco delle stelle allora di cosa stiamo parlando beh stiamo parlando di un gioco in cui ovviamente dovremmo andare a fare una ricerca di questo pianeta misterioso che si nasconde non è visibile la luce non lo raggiunge però noi sappiamo che c'è è lì e dobbiamo fare in modo di individuarne la posizione e come come lo facciamo ovviamente facendo ricerche capendo dove si trovano gli altri gli altri corpi celesti e da questo andando a dedurne la sua corretta posizione tutto questo in termini di gioco si traduce in un titolo in cui abbiamo praticamente il sistema o meglio la volta celeste divisa in 12 o meno spicchi in base al grado di difficoltà che sceglierete per il vostro gioco e andremo a utilizzare un'app che tramite il telefono ci darà delle informazioni diverse fra giocatore e giocatore quindi tutti partiranno con lo stesso quantitativo di informazioni utili ma non con le stesse e in base a questo dovremo cominciare a posizionare quello che sappiamo attorno alla volta per andare a escludere e di conseguenza dedurre dove questo si possa trovare ed è veramente un puzzle game universale direi perché a un certo punto dovete riuscire a trovare quella a isolare quella casella dove per forza di cosa il pianeta si trova ma voi direte ma magari la butto lì a caso e riesco a trovare lo stesso il pianeta eh no perché quando voi vi prenotate per dare la soluzione dovrete dichiarare anche i corpi celesti che ci sono a sinistra e a destra dello spicchio in cui voi pensate che sia presente il pianeta insomma quindi non sarà una cosa dettata dal caso dovrete proprio arrivarci a contorno di questo ci saranno comunque da fare ricerche e posizionare tesi sugli altri corpi celesti e tutto questo in termini di gioco vi costerà tempo e vi farà i vostri segnalini che sono quelli dei a forma di di telescopi vi porteranno ad avanzare nel conto del tempo attorno al tabellone in sostanza e andando a decretare anche i ritmi della partita il pregio di questo gioco è che veramente vi vi fa lavorare il cervello a mille nel senso che cominciate a dedurre a fare esclusioni a fare ipotesi veramente come alla ricerca davvero di un pianeta dall'altra però ragazzi io quando lo gioco sebbene mi piaccia molto io mi sembra diventare il protagonista di rayman perché mi isolo totalmente e gli altri giocatori per me non esistono e vado avanti a fare i miei ragionamenti tra l'altro confermo sono andato a vedere sull'app con sul cellulare il doc al 100% di vittorie ha giocato tre volte ha vinto tre volte con me ecco un'altra cosa discutibile se posso dirlo è il fatto del grado di difficoltà differenziale che si può dare al gioco nel senso che ogni giocatore può scegliere con che difficoltà affrontare la partita allo stesso tempo con gli altri giocatori ad esempio se uno vuole iniziare con il beginner ok si seleziona il beginner ma se uno vuole scegliere l'opzione genius troverà una difficoltà molto più elevata del suo avversario e questo questo sistema di scelta singolare a giocatore non so se sia proprio del tutto equo oppure però lì dipende un po' da un giocatore come si sente perché alla fine se ricordo bene doc questo impatta sugli indizi che ricevi all'inizio dalla app giusto assolutamente se ne riceverai sempre di meno e più in alto vai con il grado di difficoltà meno indizi hai all'inizio per cominciare a fare le tue deduzioni ma come mai in spagnolo si chiama la bruschetta del pianeta X non so ma ora ho fame non dovevi dirglielo non dovevi lo sai lo sai che dopo ci carriamo sempre su queste cose dal pubblico ci dicono che assomiglia a un cluedo spaziale io concordo perfettamente ma sai che sì magari un cluedo fosse proprio dal tiz sarebbe pichissimo anche a me è piaciuto molto anche perché ha un'ambientazione particolare graficamente è molto carino essenziale nel senso di questi giochi scientifici originale ben realizzato mi è piaciuto molto anche a me in realtà secondo me ci sta che sia un'esperienza differenziale a livello difficoltà rientra un po' in quel discorso se non lo vivi in maniera competitiva è un'esperienza di puzzle per ciascuno e quindi alla fine se io voglio che sia più difficile perché no tra l'altro questo gioco puoi essere bastardissimo se vuoi io ho buttato fuori partita completamente a flora perché ho fatto una finta ipotesi che sapevo già che era sbagliata ho detto no col cavolo perché se non mettevo un'ipotesi dal primo turno capiva subito cosa avevi base alle domande che avevo fatto cosa avevo capito mi ho messo una finta ipotesi le ho fatto sbagliare tutto sulla base di quella che è andata la partita io ero lì così sei perfido poi ha vinto il doc lo stesso però intanto però hai voluto sì perché io non ascolto queste tue cose io sono lì così sono lì nell'altra parete sì sì io sono recluso nel mio osservatorio capito doc il calo ci dice che gli ricorda Cryptid eh sì certo solo che Social Analytics è bello e Cryptid no beh 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 parliamone il tobacco spaziale prossimo gioco eh Riva sì allora io stasera vi porto due Kickstarter abbastanza recenti il primo si chiama The Light in the Mist ok è un un gioco puzzle che racconta una storia basato sul mazzo dei tarocchi eh è un cooperativo pensato da uno a tre giocatori ottimo per il solitario ma è anche divertente in compagnia ovviamente ehm dobbiamo pensarlo noi praticamente mh senza fare spoiler l'incipit è sparisce un nostro amico e tutto ciò che abbiamo per trovarlo è il suo zaino e un mazzo di tarocchi che abbiamo in mano eh l'autore è anche l'illustratore i tarocchi sono bellissimi possono essere utilizzati tra l'altro anche come mazzo dei tarocchi per chi è appassionato come me e come funziona abbiamo un libretto con all'interno una serie di enigmi può essere scelto uno qualsiasi degli enigmi all'interno del libretto ognuno ci racconterà un pezzo della storia una volta che li avremo finiti tutti in qualsiasi ordine lo faremo avremmo ricostruito un po' gli eventi e potremo intuire che cosa è successo la storia c'è un piccolo capitoletto da leggere ci dirà che carte sono coinvolte da questo eh enigma e le tireremo fuori e le disporremo sulla sulla tavola ciascuna carta come vedete ha delle illustrazioni che lì per lì sono belle e basta ma se le guardiamo meglio hanno degli elementi che si collegano l'una all'altra alcune hanno dei disegni sul bordo altre hanno dei simboli all'interno alcune hanno delle lettere ehm e a seconda delle carte che disporremo quindi dell'enigma che dovremo risolvere dovremo trovare il modo di interpretarle di trovare come si legano tutte quante e identificare la parola che poi ci porterà al capitolo risolutivo alla risposta all'enigma Jack che è l'artista e l'autore del gioco fa questi giochini qua da anni se voi andate ne trovate alcuni sul suo sito che si chiama Cryptogram Puzzle Post tutto attaccato Cryptogram Puzzle Post e lui li metteva nelle buste erano dei print on demand lui proprio gli piace fare enigmi ha fatto questo questo Kickstarter usando un mazzo di tarocchi la narrazione è fatta bene da quello che ho sentito io non lo possiedo ma non vedo l'ora che parta un viga perché secondo me è un gioiellino un gioiellino estetico un gioiellino come design perché fa tanto con poco nel senso che alla fine hai 23 tarocchi 22 tarocchi maggiori arcani maggiori e poi una quarantina di quelli minori e con queste 70 carte essenzialmente ti mette una serie di enigmi che puoi affrontare ogni volta non durano tantissimo ovviamente le partite saranno una mezz'oretta per risolvere un enigma anche meno dipende però li puoi giocare in successione e ognuno è diverso dall'altro ci sono tra l'altro nella storia dei temi da adulti che forse non sono consigliati per un pubblico family ma le illustrazioni sono bellissime e l'ambientazione no 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 ma l'area di misticismo il magnetismo che crea secondo me è sufficiente per tenerci incollati alla storia e se uno è appassionato come me di tarocchi trova anche dei riferimenti alle illustrazioni dei tarocchi tradizionali quindi ci sono dei simboli che li richiamano ed è un valore aggiunto per chi conosce quella cultura lì c'è veramente veramente un sacco di cose da sgranocchiare su ogni carta per chi ha l'occhio attento e vuole vuole esplorarle e la possibilità di risolvere piccoli enigmi nessuno di essi da quello che ho sentito è veramente difficile si riescono tutti a risolvere abbastanza agilmente ma non sono banali alcuni sono più facili degli altri ma insomma ci sta anche per un puzzle che dovrebbe durare una mezz'ora l'altra cosa interessante di questo giochino qui è il sistema degli indizi perché come abbiamo detto potrebbe capitare una situazione frustrante soprattutto in un sistema così essenziale come quello delle carte in tavola che non ci parlano direttamente quindi lui ha fatto un QR code che noi scannerizziamo inseriamo il codice dell'enigma che dobbiamo affrontare e ci permette di dire di avere degli indizi graduali quindi uno poco che ci dice poco quello successivo che ci dice un po' di più quello successivo che ci dice ancora un po' di più e quindi possiamo decidere quando fermarci della serie no no basta ok mi è sufficiente per tornare sui binari magari stavo divarando troppo e a quel punto proseguire con la nostra con la nostra indagine che appunto limita la frustrazione e che per uno come me che di solito la soluzione è sfondo la porta con lasciami penne capite che potrebbe essere sì è interessante per qualcuno magari che mi suggerisce no guarda stai vaneggiando ti riporto un attimo sulla retta via questo è Light in the Mist di Jack Follows è un kickstarter di un paio di anni fa se ricordo bene sì la copertina me la ricordo eh sì le illustrazioni sono tutte diverse sono tutte belle ognuna ha un puzzle leggermente diverso che si interagisce con le altre perché tu non è che un puzzle usi una carta e poi quella carta la butti via hai capito quella carta stessa te la ritroverai in un altro puzzle e te la ritroverai trovare un altro modo di utilizzarla e si collegherà in un altro modo al puzzle che affronterai dopo bello 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 ok vai maledice vado io allora ragazzi tiro fuori un bel classicone che secondo me va menzionato allora voi sapete che ultimamente nel mondo ma soprattutto neanche in Italia è esplosa un po' la mania dell'escape room no escape room che tra l'altro io non so se siete di Padova o dintorno e ve ne consegno una spettacolare si gioca in 16 a tema spaziale con tanto di ruoli si chiama Iscampa riguarda quello spaziale penso sia la migliore che ho provata ne ho giocata qualcuna devo dire mi sono sempre molto divertenti quella la straconsiglio perché c'è il traditore anche quindi c'è proprio roba farina del mio sacco e se devo pensare di giocare a una pseudo escape room però con narrazione mistero e cose particolari a me viene in mente Time Stories tutta la saga di Time Stories ma nel specifico vado a tirare fuori il primo che a me era piaciuto tantissimo a voi perché c'era un po' un tocco Lovecraftiavano in Time Stories del primo non posso dire assolutamente niente perché solo la scatola potrebbe essere spoiler fammi vedere no ok però vabbè noi siamo entriamo in queste questo è quello del primo direi che graficamente è molto bello attenzione molto molto ben studiato e noi siamo appunto dei viaggiatori del tempo che devono se non ricordo male risolvere delle situazioni per evitare che ci siano delle fratture temporali che causeranno la fine del mondo è molto divertente anche la parte iniziale del briefing non so se ve la ricordate ragazzi che ci sgridava sempre prendevamo sempre parole sin dall'inizio tantissimo devo ancora iniziare però era divertente questo approccio e tra l'altro tutta la saga di Time Stories è collegata cioè ogni scatola che prendete ha un filo conduttore un po' come erano le serie degli anni 90 che erano autoconclusive il capitolo ma sotto sotto c'era una trama che porterà poi un epilogo più o meno interessante non ne ho sentito parlare molto bene del finale ma non l'ho vissuto quindi non posso esprimere il mio giudizio che dire è divertente enigmi molto azzeccati una bella anche narrativa e il puzzle ci sono e come se ce ne sono all'interno potete trovare tantissimi tipi di puzzle che può essere non so combinare delle catture quello che ci si dava sempre Luca esatto mamma mia ho paura il terrore era cattivissimo come responsabile del remè ovviamente qui si fallisce con lo spazio-tempo quindi deve essere severo un gioco della Smoothie mi pare di sì che non era a stereo era già la Smoothie e molto secondo me è anche molto ben narrato per certi versi e la cosa bella la cosa bella è quando entri nelle stanze nuove che metti tutte queste carte un po' in fila che vanno a creare le immagini e in queste immagini troverai tanti tanti puzzle uno dietro l'altro ecco questo è un labirinto vedete boh chissà perché c'è un labirinto o non è nemmeno un labirinto è un cervello chi lo sa non voglio appunto spoilerare ve lo straconsiglio se per una serata così un po' spensierata però comunque con un certo spessore sì ne ho giocate tra o quattro e devo dire che ci siamo divertiti sì ne sono uscite tante vero di scatole allora ne sono uscite anche troppe nel senso che nel disegno originale dell'editore diciamo che sia un po' aveva fatto un po' un commitment un po' particolare perché aveva detto ne uscirà una ogni mese se non ricordo male di avventura per un totale di x mesi forse un anno era aveva prestato tutti che lui ci avesse già le storie pronte purtroppo aveva scoperto che non era così qui è partito molto bene la prima a me non mi ha mai esaltato lo confesso nel mio genere di gioco però devo dire che la prima la storia c'era la seconda secondo me già scricchiorava un po' la terza era fantastica però completamente fantasy poi so che è andato avanti con altre due che erano abbastanza buone poi è degenerata la cosa perché ha dovuto iniziare a correre per farle tant'è che anche il finale ha lasciato la Mario in bocca tantissimo anche io non lo conosco non l'ho vissuto però non è un contratto ancora uno che mi aveva detto è un bel finale so che questa cosa qui è rimasta anche un po' a livello di editore tant'è che hanno fatto uno spin off per recuperare un po' questo finale però non non ho avuto poi notizie di come sia andato non so neanche se l'abbiamo pubblicato al fine dello spin off forse è fermo la seconda avventura quindi si ne hanno fatte tante però in questo caso la quantità non ha premiato la qualità almeno così sembra dalle informazioni che ho diciamo che noi hanno colpito molto la prima la terza quella fantasy sì quella è molto bella quella di super fantasy c'erano delle cose veramente molto carine e le altre già già la seconda non c'era più anche se la seconda aveva un bel colpo di scena però sì sì ti ricordo che la seconda Max l'avrebbe risolta la terza sì va bene va bene perché Max è qualsiasi cosa bisogna la terza carta quando ci sono quando ci ho spiegato il perché io ci sono rimasto proprio malissimo è tutto che cavolo sì sì ok prima di andare avanti vuoi leggere un po' di commenti cosa dice sì anche perché Luca che ci chiede informazioni sul gioco di cui ho parlato prima sì grande Luca intanto ciao Light in the Mist è un indipendente quindi io credo che sia distribuito internazionalmente dalla ho visto una roba tipo post curious che deve essere proprio la casa editrice di di Jack quindi una roba piccola però da quello che vedo è anche French Fairlag quindi credo che sia anche distribuito in Francia invece da dalla French Fairlag quindi in francese dovresti riuscire a trovarlo se mastichi in francese se no facciamo partire un Uiga comunque sì è decisamente indipendente potrebbe essere una buona idea far partire un Uiga io ci parteciperei un Uiga allora in questo caso siamo già in tre finita no in italiano non c'è Alessandro prendere lo spunto dall'intervento di Maledice vi cito Eterfield in cui ogni sogno è praticamente un escape room da risolvere con enigmi molto sfidanti sempre diversi bello sì bravo bravo non so se tu l'hai mai provato Alessandro no non credo però ci sono molti giochi in chiedito con Eder qualcosa e li confondo spesso con loro no quello è Eter Eter sì anche Eter anche Eter no Alessandro è delirante al punto giusto bello ci sono effettivamente di situazioni diciamo da escape room tra virgolette sì sì però sì ma poi è tutto lì il puzzle è proprio l'essenza del gioco nel senso che all'inizio tu sei questa entità non sai perché sei lì non sai che cosa ci fai e piano piano man mano che vai avanti da sogno in sogno dovresti riuscire un po' a capire chi sei perché dove vai che fine faremo un fiorino bene tocca a me vai io vi porto allora per questa live non so se qualcuno ha notato ho preso una copertina un po' particolare quello lì che ha la faccia di maledice non è in realtà maledice non so se con Dr. Strange con Dr. Strange ecco e qui parlerò anche di proprio Benedict Cumberlack o quella cosa lì e quindi il gioco che vi porto è il gioco che si ispira proprio alla macchina di Turing che è il prototipo prototipo forse l'antenato l'antedisegnano dei moderni computer e nuova del pc e quindi parlo di Turing Machine che tra l'altro ce l'ho pure qui con me perché è una cosa molto particolare questo gioco la scatola è fatta come fossero schede perforate vedete schede perforate le dita perché il gioco si basa proprio su questo allora noi dovremmo indovinare c'è la modalità solitaria modalità cooperativa modalità competitiva cioè ci sono tre modalità solitarie o diverse tra loro mettiamola così è doverlo indovinare dedurre una sequenza di tre numeri e per farlo c'è un'app che ci prepara il setup non scegliamo il livello di difficoltà tra easy medium difficult nightmare praticamente e nel fare il setup ci abbiamo praticamente quello che vedete che è una plancia centrale esagonale delle carte criterio che ci danno che criteri di valutazione abbiamo e una carta utilizzata per la valutazione di quel criterio come funziona la cosa praticamente io ipotizzo questi tre numeri prendo una scheda perforata per ognuno dei tre numeri blu giallo e viola che vengono messi in sequenza quindi metto una scheda perforata sopra ognuno di questi prendo la carta corrispondente al criterio che voglio verificare che ne so per esempio ci sarà un criterio che dirà c'è una volta sola il numero tre nella tua sequenza la metto sotto in base all'incrocio di queste schede perforate vedrò un quadrattino che se è rosso vuol dire che il criterio è sbagliato se è verde vuol dire che il criterio è giusto nel mio caso per esempio c'è un solo tre se è verde vuol dire che sì nei tre numeri che sto cercando c'è un solo tre quindi io avrò scritto per esempio due tre uno avrò messo la carta due tre uno perforate una sopra l'altra poi abbiamo messo solo quella del criterio se è verde vuol dire che sì il tre c'è se invece è rosso vuol dire che no in quella sequenza numerica non ci sarà il tre ovviamente come esempio ho preso adesso un criterio relativamente semplice sono quelli del livello di gioco easy ci sono criteri molto più complessi tipo almeno un numero è dispari la somma di due numeri fa cinque e quindi insomma è un po' più complesso da da beccare il solitario è abbastanza semplice è una sfida contro te stesso devi beccare la sequenza nel miglior numero di test di test possibili insomma di domande possibili tra l'altro ogni turno se non ricordo male puoi fare tre puoi verificare tre criteri in una partita invece competitiva banalmente devi beccarlo più velocemente del tuo avversario quindi ti segni segretamente la tua sequenza di tre numeri ti prendi segretamente le schede perforate con i tre numeri che hai scelto e poi a turno si verifica i criteri chi lo becca per primo vince il cooperativo è come il solitario ripeto sono tre modi diversi di giocarlo in solitario praticamente però il gioco è molto carino a me effettivamente ha preso lo gioco solo in solitario anch'io però ho preso parecchio infatti se il mirano ci dice tu mi machine ce l'ho anch'io in solitario una bomba nella mia top 3 dei solitari l'ho consumato magari non è nella mia top 3 dei solitari però comunque effettivamente a me è piaciuto parecchio rende proprio l'idea è un'altra ambientazione originale sta roba delle schede forate è bellissima secondo me ti dà proprio l'impressione metterceli dentro è studiato da dio su questa cosa l'hanno studiato molto bene ma che roba sono i tre numeri uno sopra l'altro ma tu come programmatore ti sei sentito qua agli albori dell'informatica quando giocando questo gioco un po' sì per certi aspetti perché comunque sta con le schede perforate ti dà veramente allora io non ho visto le schede perforate ovviamente nell'arco della mia vita però ho una certa età quindi le ho studiate quando ero ragazzino alle superiori le stampavo io le stampavo io ma il gioco ha preso figurati il dog faceva i buchi sulle schede oh sì Fabrizio mi dice si sente un gatto disturbale vuole proporre calico calico mi ha lanciato la ciabatta e ora si è allontanato anche Wispone per certi alti versi forse vuole vuole un gioco sui croccantini ma forse abbiamo qualcosa per i gatti più tardi facciamo la live tema gatti sembra interessante mamma mia però potrebbe essere il tema gattini non l'abbiamo mai fatta non l'abbiamo mai fatta per ora per ora i giochi sui gatti comunque non è che manchino adesso mamma mia va bene dai giro di boa vai doc tocca a te sì beh non andiamo con i gattini ma insomma andiamo con animaletti antropomorfi e vi parlo di tiny towns tiny towns è un gioco proprio di pattern ragazzi dovremmo fare una serie di pattern per costruire il nostro villaggetto da far popolare i nostri animaletti antropomorfi che vi abitano e come lo faremo beh abbiamo questa nostra plancetta 4x4 in cui dovremmo andare a depositare delle sequenze fatte dai materiali che ci servono per costruire i vari edifici e una volta che riusciremo a costruire uno dei pattern che fanno la base praticamente della costruzione dell'edificio potremo rimuoverlo dalla nostra plancia e in uno dei quadrati che abbiamo utilizzato per piazzare i materiali dovremmo sostituirlo con l'edificio stesso quindi ad esempio se compongo una L fatta da 4 cubetti in uno di questi 4 quando l'avrò completata dovrò andare a sostituirla con uno di i miei edifici la cosa all'inizio come potete immaginare non sarà troppo complicata ma a mano a mano che gli spazi si riducono e dobbiamo ragionare su come e dove mettere gli edifici per fare più punti possibili le cose cominciano a complicarsi e riuscire a mettere in fila una serie di edifici strutture che vi permettono di fare più punti possibili comincerà a diventare sempre più complesso anche perché e qui sta il bello del gioco ad ogni turno non sceglierete voi il materiale da piazzare o meglio lo sceglierete una volta ogni round in sostanza turno dopo turno ogni giocatore dichiara il materiale che vuole utilizzare e lui e tutti gli altri dovranno necessariamente scegliere quel tipo di risorsa per cui da questo punto di vista il gioco si presenta delle bastardate incredibili soprattutto da metà partita in avanti perché ovviamente scegliere una sequenza positiva per te ma distruttiva per gli altri può veramente andare a mettere in difficoltà tutti è un bel rompicapo che però non non disdegna una certa interattività visto che andremo a rompere le scatole degli altri per quello che vi ho detto ecco gli edifici sono mi pare otto per per partita e ogni edificio ha tre carte diverse di pattern per cui avranno sempre un effetto diverso di volta in volta oltre a questo ogni giocatore può scegliere un edificio speciale che pesca a casa fra due scusate ne pesca due e ne scegli uno fra questi due e che avrà delle capacità particolari ecco è divertente dura il giusto e c'è chi ovviamente vi odierà perché andrete a chiamare il materiale che lui non avrebbe mai voluto volevi argilla e ti beccherai il vetro e beh ma funziona così e secondo me è un bel esempio di di pattern dove veramente ripeto si parte facile e si arriva ad un punto in cui sai che non riuscirai a piazzare più nulla sì a me questo di quell'anno lì tu mi hai fatto provare due city building molto semplici c'era questo e era se ricordo bene ma questo qui mi è entrato proprio nel cuore perché è uno di quei giochi dove con veramente due regole semplici lo spieghi in due secondi ti siedi e inizi a giocare e lì la sfida è proprio nel riuscire a raggiungere i tuoi obiettivi o più o meno quello che vuoi fare mentre la mappa ti si stringe intorno mentre arrivano delle ingerenze esterne e tu ti sforzi a riuscire a ottenere quello che vuoi e poi alla fine non ce la fai mentre le rompi capo diventa sempre più complesso tutto intorno il duro è il giusto le componenti sono semplici ma d'effetto e tu ti costruisci questo paesino che sarà diverso dagli altri e possibilmente ti regalerà più punti questo è davvero un bel prodottino a me è piaciuto tanto sì è veramente un gran giochino questo effettivamente fatto molto bene io mi ricordo che quando lo giocavamo vorravano tante parolacce cioè tipo sì certo questo è bello perché è veramente infame me lo ricordo molto bene carino veramente si gioca fino a 6 quindi quando sei in 6 tu devi aspettare 5 persone prima di dichiarare un'altra tua risorsa che vorresti sì esatto tu semplicemente vuoi fare la statua ranocchia che ho visto prima e non ci riesci no ti mandami di testa sta cosa già mai già mai un bel titolo tra l'altro anche qui Doc Massimiliano dice Tiny Towners è un altro gioco che ho e che mi piace tantissimo due regole in croce ma per nulla banale come è una cosa su lui Barbara ci ricorda che anche l'isola dei gatti cioè di Isla Kat Kat è anche in tema assolutamente un puzzle game e poi Sad Jackal ci fa delle domande ma le terrò per fine live così non interroppiamo un po' il flusso quindi abbia un po' di pazienza Sad Jackal adesso c'è mega hype su questo ah ok eh no c'è mega hype per queste domande c'è una cosa mi chiuso la live esatto senza me metto ci saranno le domande di Sad Jackal potrebbe essere una live un momento free mamma mia che bello ma non lo sarà dai viva no vado allora io vi presento adesso invece prima ero in cooperativo adesso andiamo sul solitario puro un altro giochetto semplice semplice si chiama puzzle dungeon sapete che un po' di dungeon ci sta sempre e mi sono sforzato di trovare qualcosina che c'entrasse con i puzzle questo è un gioco che hanno fatto la ristampa su kickstarter l'anno scorso ok il tizio lo vendeva su Etsy per chi conosce è un sito dove si vende artigianato quindi praticamente li fa lui nello scantinato di casa ma è un solitario con delle carte e la grafica in pixel art già qua mi ha catturato il gioco è molto semplice abbiamo un mazzo di risorse alla nostra sinistra peschiamo sei carte ciascuna di esse ha un simbolo e ne mettiamo altre sei mi pare davanti a noi quelle davanti a noi saranno il nostro zaino tra virgolette potremmo usarle solo dalla destra verso il centro quindi non potremo scegliere quelle che abbiamo quelle che sono dopo la prima carta impilata a destra mentre quelle della mano possiamo giocarle come vogliamo davanti a noi poi abbiamo quattro corridoi del dungeon i corridoi hanno ciascuno cinque mostri ciascuno i mostri come vedete trovane uno se magari riesci a trovarlo un po' più grande ci hanno due versioni quella forte e quella meno forte cioè forte sul retro e meno forte davanti e ciascuno di essi ha delle risorse sotto che noi dobbiamo consegnare sfruttare per sconfiggerlo una volta sconfitto ci darà una risorsa che potremmo usare come one shot e delle abilità attive esatto le vedete lì sotto nelle abilità attive che potremmo utilizzare il boss invece la modalità quello più difficile che si attiva dopo che ne avremo uccisi tre dello stesso tipo ha una passiva che ci rompe tantissimo le scatole la nostra bravura sarà nel gestire la nostra mano di carte e il nostro il nostro zaino per riuscire a sconfiggere i mostri che sono rappresentati sulla nostra carta personaggio di personaggi ce ne sono 50 double fast dentro alla scatola base nella ristampa ne hanno fatti 400 quindi una valanga di roba ok ognuno diverso ognuno con le sue abilità ognuno con i suoi mostri da sconfiggere una volta che abbiamo sconfitto i mostri che deve ammazzare il nostro eroe avremo completato la partita capite però che la parte interessante è che noi dovremmo vedere bene i mostri che abbiamo davanti nei vari corridoi e capire quale affrontare prima in base alle carte che abbiamo in mano e il nostro zaino per riuscire a ottenere le risorse che ci serviranno per sconfiggere quelli dopo perché una volta che avremo finito il mazzo alla nostra sinistra la partita sarà terminata quindi riuscire a ottimizzare queste due cose per sconfiggere i mostri che ci servono magari e ci costringerà inevitabilmente anche a fare fuori qualche altro mostro che non ci interessa niente ma serve solo per toglierlo di mezzo per raggiungere quello che ci serve e con delle risorse che diventano sempre più brevi capite che è molto molto interessante ci costringe a programmare bene l'uso delle carte la grafica è carina e la durata è contenuta è un gioco da pausa pranzo diciamo in pausa pranzo riusciamo anche a fare due o tre di partite una partita dura dai dieci minuti o al quarto d'ora molto semplice ma secondo me d'effetto con una rigiocabilità enorme tra l'altro nella ristampa che hanno fatto c'è anche il modulo con le trappole ovviamente con i tesori che ci danno delle altre abilità potenti one shot le trappole invece che ci danno delle passive finché non le sblocchiamo che ci vanno andranno a far spendere carte quindi un concetto molto classico come quello appunto dell'eroe nel dungeon realizzato secondo me in un solitario essenziale ma non per niente scontato con una grafica pixelosa che si è vero qualcuno è un po' più brutta delle altre però vabbè a me piace proprio il genere questi sono appunto poi tra l'altro lui il pazzo che l'ha fatto che non mi ricordo il nome sulla sua pagina Etsy tu lo potevi pagare tipo 10 euro mi pare e ti faceva il tuo eroe personalizzato con la tua abilità con i tuoi obiettivi e l'illustrazione tua sopra quindi capite che la passione e la follia che c'è dietro a questo progetto è bellissimo anche questo è veramente molto interessante tra l'altro Paolo Recitti dice che stasera stai facendo i video al cercatore di perle mi commodo concordo concordo e voglio ricordare Luca Laveria che si chiede se è stato licenziato disperso in mare di perle no purtroppo non l'abbiamo ancora licenziato ma ci stiamo lavorando no ma sapete che lui ha questi partiti di subuteo si ha il torneo di subuteo bene male dice tocca a te allora adesso vado a tirare fuori un gioco che mi piace semplicemente prima quello famoso adesso quello che mi piace è questo è introvabile e molti diranno eh ma non è un puzzle game questo male dice parlo di di un german no no dai porca miseria oh no Mac vs Minion ok ok Mac vs Minion dell'universo della League of Legends gioco che tra l'altro piccola curiosità ha permesso l'incontro tra me e Riva siamo alle 4 di mattina la Riot una volta è venuta a Lucca e aveva tipo 20 copie di questo gioco 75 20 al giorno erano 20 al giorno esatto e quindi i primi 20 che arrivano se lo prendevano io ero lì alle 4 di mattina e c'era uno davanti a me ed era io alle 8 sul gioco pensa se avesse preso la tua copia esatto sì e la cosa bella è che siamo trovati anche il giorno dopo e questa è la cosa sempre le 4 di mattina e ho detto no qua c'è qualcosa di strano nell'universo ma perché non avevate preso la copia il più giorno no perché ci aveva chiesto il nostro amico di prenderlo però è un amico in comune e c'è chi sa tutti e due no e quindi tutti e due siamo andati lì a prenderle e ho detto vabbè funziona così a fine noi abbiamo rubato 4 coppie al mondo portate pazienza però sono tutte andate a persone diverse quindi abbiamo fatto una buona causa perché puzzle game beh questo è un gioco a scenari quindi ogni scenario ha una suonatura diversa magari sono dei scenari un po' più da battaglia più più tower defense però ogni scenario ti dà come dicevo all'inizio dei pattern specifici vedete sono i minion che si muovono con il loro il loro movimento e noi abbiamo le nostre carte che dobbiamo programmare un po' la roborelli come diceva Canopus nella scorsa puntata tu programmi tutte le carte che poi avrai anche potenziale perché in realtà ci sono tutte cose fichissime ecco quando premi le carte le giri e poi vai eseguire il movimento del mac sulla mappa ogni scenario ha questo senso di puzzle ok come dicevi inizio puntata puzzle all'antica oddio hanno fatto i minion si parla di minion effettivamente ed è stradivertente perché sono veramente ben studiati alcuni devi proprio ragionarci su cioè dire ok devo risolvere il puzzle e non devi farlo da solo devi farlo con gli altri ok tu dici ragazzi io cercherò di risolvere questa parte del puzzle cercherò di limitare l'ondata dei meeple oppure c'è la bomba da portare in giro quindi devi uno deve liberarti la strada l'altro deve portare la bomba sono veramente molto diversi i scenari quindi tra l'altro è abbastanza spoileroso se vado avanti con la storia perché sono tutti chiusi in buste segrete quindi non vorrei rovinare la sorpresa esatto una storia divertentissima ma proprio da ridere perché ci sono soprattutto per chi ama l'universo di League of Legends materiali da urlo dipinti ok non so quanti giochi avete dipinti ve li vendono già dipinti solo i roscafe quelli che ho che vendono cose già dipinte dentro un nano 3 esatto sì ma dipinte così guarda che sono dipinte veramente bene in miniatura questo è uno che si è dipinto anche in Minion ma c'è tu hai solo le miniature base dipinte in Minion non solo diciamo un'inchiostratura è un gioco bellissimo ho fatto anche un video sul gioco in alto se volete approfondire un po' il discorso di meccaniche però bello bello in modo assurdo uno dei miei giochi preferiti se posso dirti una cosa raggiungere è vero che c'è il puzzle dello scenario ma ogni turno tu c'hai il puzzle della plancia perché governi il Minion e per farlo devi piazzare delle carte delle carte che rappresentano i movimenti in batch cioè in programmazione che farà il tuo Minion quindi ogni turno tu devi pensare ok poi le robe si rompono ovviamente quando ricevi i danni e ti si incastra magari una che ti fa girare in tondo esattamente in quel posto lì quindi devi pensare ok come secondazione mi girerò quindi come prima devo fare questa poi devo mettere quell'altra ma c'è l'elemento real time in tempo reale c'è una clessidra che termina il tempo in cui tutti possono scegliere le carte e quando è finita vengono assegnate a caso quindi potete immaginare che ad un certo punto la situazione diventa veramente un'ansia sì cioè fai danni anche agli altri cioè comunque è impazzito ragazzi non riesco a fermarlo e sposti tutto quanto no è è veramente una chicca di gioco così ne escono veramente pochi ragazzi ok guarda l'unica cosa che mi rompe un sacco le scatole è che non c'è traccia di una ristampa proprio non non si sa se perché è un gioco che in realtà è tanto branato cioè lo voglio in tanti però la Riot penso che abbia fatto quelle 75 copie in italiano poi forse ha fatto una seconda wave di 100 no ne ha fatto un po' di più no ne ha fatto un po' di ha fatto diverse wave l'hanno anche tradotto in italiano perché è quella che io in inglese la mia prima stampa con tanto di numerino di serie cioè una roba costava 70 euro diciamo oh mio contesto 70 euro 70 euro e c'è un botto di minature dentro ma era diciamo una promo della Riot più che un gioco da tavolo questo dopo infatti è aumentato il prezzo però hanno fatto delle ristampe perché il gioco è stato molto richiesto non è da escludere che lo rifacciano perché la Riot fa così ogni volta esauriscono i suoi store e li ributtano fuori lo fa spesso non è una cosa solo esclusiva il gioco ormai sono passati un bel po' di anni non so se oddio l'ultima ristampa non era tanto tempo fa onestamente oddio lo vedo 2.000 euro Paolo te lo puoi tenere sono uno che mi ha detto è un bellissimo gioco ma avrebbe dovuto farlo più sfidante è molto semplice vincere però che me l'hai detto perché me l'hai dato 2.000 euro ma oddio ci sono dei scenari che non sono proprio io so che c'è gente che si è inchiodata se giochi 4 è più facile esatto bravo l'unico difetto se vogliamo trovarlo secondo me è la scalibilità nel senso in 2 devi controllare 2 minion a testa in 2 certi scenari ho fatto fatica a farli con 2 minion con 2 mech sì con 2 mech scusa ok perché io l'ho sempre giocato in 4 con Luca è il numero giusto e in 4 ce n'è uno che l'ho dovuto giocare più di una volta che non era facilissimo non dico quale ma è anche uno di quelli più eclatanti ok va bene va bene tocca a me con l'ultimo io avevo previsto un gioco ma in realtà ne parlerò di un altro perché adesso mi è venuta voglia di parlare di un altro gioco ecco basta rovinati i piani la programmazione German doveva finire stasera ho avuto un momento American un momento maledice ma non te l'hanno detto che non c'è più la distinzione tra German e American stasera l'ho sentita solo 5 volte sta cosa non mi è ancora entrata in testa parlerò di My City la tua proprio la tua proprio come? scusa è una prossima battuta siamo già al momento sì sì è tutta mia come cantava con il tuo tutta mia la città ma i siti di cui vi dirò anche l'orribile segreto sto facendo la campagna col doc Erenberger ecco dove vai ogni venerdì in quella stanza siamo leggermente oltre no siamo oltre la metà abbiamo scollinato siamo a buon punto dai ed è un gioco di Knizia già il nome Knizia nella carta del mazzo ti dice quale polimino di andare quale edificio di andare a piazzare lo piazzi sul tuo tabellone c'è un fiume al centro che non puoi scavallare qui lo metti o da un lato o dall'altro del fiume lo scopo è quello di occupare il più spazio possibile coprire le pietre non puoi piazzarlo sopra gli alberi se non riesci a piazzare un edificio perdi un punto partire a 10 punti poi ovviamente a seconda della prima partita vai a vederti gli alberi tirano un punto le pietre ti fanno troppo due punti regole la prima partita ok detta così sembra banale semplice però questo è un legacy tu man mano che vai avanti si modifica e ripercorre la storia praticamente della crescita di una città quindi tu all'inizio parti così semplice prima con l'inizio poi è stato fuori il pozzo tu metti il pozzo c'è bisogno d'acqua il pozzo ti dà punti se avrai l'avrai circolato con più edifici possibili quattro al massimo poi cosa succede qual è la prima cosa che arriva quando uno divisa un territorio le chiese così quindi ti introducono le chiese ti danno punti se sono circondati dai edifici dei tre colori diversi così hanno più eterogenità nella cosa poi parte la corsa all'oro quindi devi ti ferrai due adesivi con le pepite in due punti proprio alle antipoti della mappa e dovrai connettere prima degli altri se ce la fai se sarai il primo a coprirli o a connetterli e guadagnare le pepite che poi ti danno punti servono anche punti poi ci sono i punti vittorie della partita i punti vittorie della campagna poi dopo la corsa all'oro cosa è salta fuori è salta fuori e adesso forse sto facendo da qualche anno ormai tranquilli nessun problema comunque se inizierete a tagliare gli alberi salteranno fuori l'industria ma io non ho capito una cosa ogni partita inizi con la plancia vuota o dalla città che avevi costruito qui no inizio con la plancia vuota ma gli adesivi che ti hanno fatto piazzare prima quindi per esempio quando c'è del forestamento avrai adesivi che ti ridurranno la foresta scusa ma la città di prima che fine ha fatto è stata vaporizzata distrutta è stata vaporizzata ogni partita praticamente viene vaporizzata è terribile il tuo gioco è un massacro ci sono gli adesivi che tu piatti il pozzo poi il pozzo non c'è più quindi lo copri la foresta la riduci c'è le due miniere poi sparisce questo aggiungi quello seconda domanda è molto dinamico il pozzo lo piazzano tutti nello stesso posto io posso decidere no hai delle regole di piazzamento per il pozzo hai scelto dove metterlo entro certi limiti idem per le miniere idem per no le miniere no quelle che hanno chiuso nel stesso posto idem per come ridurre la foresta idem se peschi alberi o pietre extra da piazzare quindi viene estremamente personalizzato diventa un po' città è molto 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 particolare tra l'altro mi sta piacendo un sacco proprio perché quando finisce una partita non vi dirò di vedere come sarà la prossima ed è un'altra cosa particolare è che andando avanti non aggiungi regole le cambi cioè un po' all'inizio le aggiungi un po' a un certo punto non è che avrai nuove regole verranno modificate quelle precedenti perché alcune cose poi parleranno di senso cioè quando hai le industrie e tutto il resto non ti serve più il pozzo per farvi un esempio chiaro sì nel senso quando arriva la televisione non c'è più la chiesa queste cose qua no quello purtroppo no cioè purtroppo quello no almeno per ora non l'ho visto la città che se ne setta ogni tot il sogno di ogni sindaco forse non lo so non credo il sogno di ogni sindaco dove di costruire ogni volta una città cioè concettualmente è terribile io mangio questi abitanti che muoiono continuamente mi trasferisco subito porca miseria no ma guarda ma vuoi mettere che ogni tot anni ti arrivano gli edifici volando dall'alto a forma di polire tipo alieni no ma prima vengono rase a suolo la mia città il problema non è tanto che arrivano le nuove case è il fatto che vengono polverizzate le vecchie si vuole essere una specie di esperimento degli alieni capito seminano la civiltà la fanno crescere poi dicono no arrivano gli harvester tolgono tutto ricominciamo da capo stavolta mettici un po' di chiesa dentro ah si e fai ripartire l'esperimento sociale tipo delle piastre agar con l'umanità state costruendo una infrastruttura di lore su quello che è un gioco di clinifero e semplicemente ti dicono guarda tu vai lì e colonizzi un territorio facendoti la tua città ogni x tempo lo ricolonizzi con nuove regole questa è l'ambientazione che ha messo Quincy appunto chiaro chiaro molto bene però lo consiglio è fantastico ok beh riprendiamo il commento di prima scusate ah il famoso commento di prima che ci hai lasciato in sospensione ecco verità due domande ma le dice ti è arrivato Utopia era il gioco che è in viaggio quello che fermo in Belgio dovrebbe arrivare la prossima settimana era veloce questa risposta e poi a tutti gli altri che ne pensate del kickstart di Deng Light avete partecipato? Deng Light? sì non ho partecipato sì non c'è più tanto sono quattro domande esatto non ho partecipato anche perché l'ha preso pigro e probabilmente ci giocherò con lui quindi ha preso pigro quindi probabilmente è brutto l'ha preso pigro quindi probabilmente è brutto anche anche io ho visto il video di pigro però bisogna far spazio esatto e va bene ragazzi ok l'ora è tarda ma ci abbiamo un momento per forza facciamoci forza eh sì per forza per fortissima che fatica respira doc dentro l'ossigeno fuori cos'è che buttiamo fuori noi? l'ossigeno fuori tutto il resto mettete la sigla dai ah devo metterla io? ah hai capito lì che aspettavo che lo mentevi tu eh no è subito la responsabilità di il memento io ho già aperto la prima e so che finirà nel sangue questo memento posso addormentarmi che l'ho mandata una anch'io a questa settimana 10 10 più di una ne ho due iniziamo con questa sera sei libero intavoliamo un'american così ah lorenzo ah io mi sento offeso ah beh hai chiesto ma lorenzo è america perché ci devi proprio perché si viene che vi consiglia giochi riposanti per la mente vabbè tu scelpa i german eh sì andiamo avanti ecco questa è la puntata di Toy Story che vorrei vedere ragazzi torni da negozi con questo che prenderà vita durante la notte e probabilmente mangerà gli altri due giocattoli quando l'ho visto ho risultato tessio ragazzi eh sì se prende vita Nargol sono rovinati i giocattoli però poi permesso il povero dinosauro che oh mio Dio in effetti ecco questo non l'ho ancora capita a fine questa io vi sono lavorato con i serati ma poi vedrei altro perché sono tre il terzo cane il terzo è un uomo è un cane ma come un cane è tipo un barbocino nero vedi che questa qui è la codina oh signore ci ho messo tutto il giorno io ho scoperto io ho scoperto adesso ma santa pazienza il tuo che è ancora sveglio pulisse il piacere della coperta mamma mia ma è orribile questa cosa ragazzi voi non ci credete ma la mia compagna ha quella coperta è così a quella coperta non dovevi nemmeno dirla sta cosa non Harry Potter vs Voldemort non Gandalf vs Sarumar ma questo è il duello migliore di sempre duello di magia duello di magia tra me e come si chiamava Maga Mago Mago Maga Mago la Mago avevamo detto niente draghi niente draghi cosa l'ho detto questa me l'ha mandata una fan grazie quando non hai fame ma mangi perché la tua bocca si sente sola i giapponesi lo chiamano Uki Sabishi gli hanno dato un nome ai giapponesi a questa sensazione che magnifico popolo poi anche questa qui è carina i miei genitori di 25 anni abbiamo un rendito fisso abbiamo appena comprato una casa che dici se facciamo un figlio io ho 25 anni ma anche a 45 in realtà sì finalmente 245 grammi questo sarà sicuramente Vegeta riguardo la moda di pesare le uova di Pasqua devo ammettere a sua discolpa avere la miniatura di Vegeta è importante beh delle tre che ci sono è la più interessante però mi sa che non si trovano più sono già andato al supermercato andiamo avanti e le hai prese tutte perché ti sei messo là alle 4 di mattina ad aspettare no c'è quella del signore di Lanelli quelle del signore Lanelli sono più interessanti ci sono le foglie quelle verdi degli hobby quelli di Lothian scusate la pronuncia oppure c'è la stella del Vespro sono molto fighe quelle del signore Lanelli ma andiamo avanti infatti stavo proprio pensando è incredibile ci dica il maestro illuminato cosa ci rende umani selezionare le immagini con i semafori se no sei un robot questo mi ha fatto vincere tantissimo non l'ho capito è roba informatici quella del captcha ah ok ok quando ritrovi un tuo vecchio hard disk oggi scopriremo i nostri avi avi mamma mamma mia che pesante questa bellina ragazzi questa è carina a chi lo dici il chilo che dice ah dice a me eh dice a me questa l'accetto l'accetto questa succede a molti qui penso si è riferito a chi scrive l'Ibia ma ma succede anche sul lavoro perché quando lo immagini quando lo scrivi quando lo rileggi ma succede anche disegnando quelle miniature assolutamente è la metafora della vita credo beh ricordiamo che ieri alla festa del papà infatti spiegare agli vestiti oltre alla forza di usare la forchetta use the fork use the fork e la forza potente in questo agricoltore che io do l'assolutamente conoscere fantastico questa è fantastica spesa la pazienza per farlo tanta pazienza avranno usato dei droni penso anch'io tu sai come sono divenuti villain della marvel erano elfi una volta catturati dai poteri scuri e torturati e mutilati una forma di vita rovinata e terribile cavolo è vero sono loro porca miseria sono tutti diventi vabbè ok pazzesca sta cosa quando mi auguri al tuo umano perché hai fame ma lui ti miagola dietro con 12 errori grammaticali noi miagoliamo i gatti chissà cosa capiscono loro io non miagolo i gatti cos'è che vuoi no io miagolo il luna park stiamo scherzando non è a spina di pesce di cosa stiamo parlando questa è roba da cercatore toglimelo pensiamo così assoluto è finita così coluna spazzo una lancia non era così male queste settimane le ultime volte che mi avete avuto 50 roba ho censurato grazie grazie per la censura grazie mille c'era c'era cercatore unchained era proprio scatenato ha mollato tanta di quella roba tanti di quei meme orribili che cioè a un certo punto mi gli è esploso il cellulare credo ci credo abbiamo veramente finito questa puntata abbiamo esplorato dei giochi incredibili dei titoli pazellosi pazellosi giusto? un pochino non mi guarda pazellosi pazellosi ok pensa se ancora vi chiamassimo come li chiamava mia nonna puzzle sarebbero puzzolosi puzzolosi ecco questa mi mancava possiamo andare in chiusura andiamo in chiusura assolutamente grazie per averci seguito tutti quanti in questa splendida live di Gioco Rautia un saluto a tutti quanti anche agli amici indifferiti che ci hanno seguito fino a questo momento non ci resta che salutarci e darci appuntamento a mercoledì prossimo puntuali alle 21 21 su tutti i canali di Gioco Rautia buonanotte e buon gioco a tutti ciao ciao